su tutti gli ospiti, gli amici, i colleghi di Trento e anche a quelli che non sono di Trento, gli studenti e le studentesse anche che sono numerosi anche oggi. Quindi riapriamo i lavori e vi presento subito il primo intervento e il primo relatore che è, sono felice che sia il mio collega Luca Morlino che è ricercatore di filologia romanza presso l'Università di Trento appunto e Luca si è formato all'Università di Padova, ha lavorato presso il CNR, l'Istituto CNR e opera del vocabolario italiano a Firenze, è stato assistente professor a Torung, Danzica e Varsavia e docente a contratto a Trento e a Bolzano. Studia diversi temi e aspetti delle letterature romanze medievali, l'erica trombadorica, l'erica carolingia, l'erica renardiana, volcarizzamenti, favole, enciclopedie, testi di dati comorali, compresa la loro traduzione e fortuna in età moderna e contemporanea. Ed è autore di vari contributi di lessicografia, storico-timologica e di storie degli studi filologico-linguistici e di critica letterale, in particolare sull'opera di Leo Spitzer. L'intervento che ci presenta oggi si intitola Le eusons les neiges d'antan, l'oblio delle lingue e l'autono delle traduzioni. Grazie Luca per aver accettato il mio invito, ti lascio la parola. Sì, beh, grazie molto a te Francesca e a tutti i presenti. Io condivido subito lo schermo. Si vede? Sì. E si sente? Bene. In caso di problemi ovviamente avvisatemi, grazie. Allora, la celebrità del ritornello di François Vion, che ho ripreso a modo di emblema nel titolo, giustifica forse, lo spero, almeno in parte, l'omissione del nome dell'autore oggetto delle numerose ritraduzioni di cui vi darò qualche assaggio fra poco. Ma in realtà, alla maniera de Vion, insomma, cioè allegoricamente, questa mancata esplicitazione dovrebbe testimoniare anche uno dei paradossi a cui sappiamo spesso vanno incontro le traduzioni e soprattutto le ritraduzioni nel tempo, cioè il fatto che, con l'andare del tempo, di traduzione in traduzione, si può un po' sbiadire la figura stessa dell'autore. È un po' un paradosso, magari il contrario di ciò che abbiamo visto ieri, ma credo che, appunto, la serie di casi, l'alternanza, insomma, la successione di casi oggetto di queste nostre giornate possa permettere di verificare un po' uno spettro ampio e vario. E questo è giustificato, diciamo, questa omissione, questo oblio, anche ho cercato di spiegarlo riecheggiando altri titoli che riporto in questa prima schermata, cioè l'oblio delle lingue, un saggio importante di Daniel Helen Rosen di qualche tempo fa, in cui tra gli altri tanti esempi viene citato proprio anche Vion, è una citazione che mi è utile anche al di là degli addetti ai lavori degli specialisti, per fare un po' di mente locale, per richiamare alla mente, diciamo, la posizione che ha Vion nella storia della lingua francese, cioè una posizione intermedia tra francese medievale e moderno, e che riflette su specie linguistica quella posizione appunto di trapasso di epoche in cui si inserisce la poesia e la cultura, la civiltà di Vion, quella del gotico internazionale, del famoso autunno del medioevo di Heysenka, che si riflette, diciamo, che è riecheggiato in un altro titolo, da Sergio Bozzola e di lì, da parte mia, riprendendo il famoso bisticcio paronomastico tradizione e traduzione, invece Sergio Bozzola in un saggio di qualche anno fa sulla forma poetica dell'Ottocento italiano, e dico subito che è importante qui in questo discorso perché io mi concentrerò qui oggi sulle traduzioni italiane di Vion, nel Novecento però, perché sono solo in quell'epoca, a partire dall'inizio del Novecento, abbiamo i primi esempi, e Bozzola fa un'analisi interessante perché è retrodata al secolo precedente quel fenomeno di superamento della tradizione lirica italiana, e in particolare per i casi, diciamo, in cui hanno contezza tutti gli appassionati, interessati di poesia anche contemporanea, cioè lo svuotamento di senso o di perdita, diciamo, di coerenza nel tempo rispetto relativamente ad alcuni istituti linguistici, stilistici e metrici della tradizione, che vengono ripresi, ma diciamo senza una organicità, sono un po' forme vuote rispetto al passato in cui avevano un immediato senso, e quindi così l'oblio delle lingue non è soltanto quello fatale nel tempo della lingua stessa con cui aveva giocato lo stesso Vion, nella famosa ballada che cita Helen Rosen, cioè un'imitazione della lingua antica, della lingua medievale, che fa di Vion davvero un moderno, perché è capace diversamente dai medievali di percepire lo scarto nel tempo, insomma, in diacronia si direbbe linguistica, ma è di prenderlo anche come espediente poetico, come artificio, in una quasi parodico e satirico, e l'oblio delle lingue va studiato in un senso propriamente storico-linguistico e filologico, ed è l'oblio delle lingue, lo riprendo qui al provare, perché non riguarda soltanto la lingua di partenza, ma anche la lingua d'arrivo. I casi su cui mi concentrerò sono quelli in cui notiamo, diciamo, la scarsa tenuta di alcuni istituti, lo scarso livello nella resa di un poeta, non soltanto filologicamente se considerato in rapporto al testo di partenza, ma anche, diciamo, nel senso, nella mancanza di valore di alcune scelte in rapporto alla storia della lingua poetica italiana. Le altre citazioni che faccio servono un po' per inquadrare la questione di una difficoltà specifica nella resa di Vion, di cui sono consapevoli un po' tutti, e cito un altro saggio di Heller Rosen, dove Vion è citato ancora di più come esempio di quella lingua oscura, di opacità, di ambiguità intenzionale, anche dovuta all'uso del gergo, di tutta una serie di fraseologie, proverbi, modi di dire, espressioni che hanno dei referenti specifici nella realtà storica parigina, dei bassi fondi, del saggio celebre, anche per tanta mitografia, più ancora che biografia di Vion, e la necessità, cioè, di strumenti adeguati per lo studio, per la lettura, in primo luogo, prima ancora che per la traduzione di quello che è un autore considerato intraducibile, qui vi porto una definizione di Giovanni Papini del 1908, è solo una tale tante, ma mi piace citarla perché segue di un anno la prima traduzione di Vion in italiano, di Giovanni Bonfiglio, ma a livello internazionale, perché la fortuna di Vion è davvero universale, anche un autore come Ezra Pound, filologo romanzo di formazione, che dedica a Vion un capitolo del suo spirito romanzo e poi, diciamo, ha una passione che prosegue negli anni e confessa di non aver saputo, di non essere riuscito a tradurre Vion, e Pound aveva tutto l'armamentario filologico per farlo, ma riconosce questa difficoltà, citando esempi invece di chi ci aveva, c'era riuscito prima di lui, come Swinburne e Rossetti, una difficoltà della resa di Vion, che, diciamo, è un po' una precondizione, un punto di partenza che non possiamo dimenticare e che poi anche Guido Ceronetti da passù, nel suo linguaggio estroso, ha un po' paradossale, è arrivato a sostenere addirittura la maggiore facilità di trattura dell'epopea di Gigamesh che non la poesia di Vion e tradurre proprio il ritornello che ho citato nel titolo. Ad abbondanzia mi riporto qui, tra i tanti esempi possibili, anche uno recente di Roberto Nussapi che giustifica, diciamo, qui la presenza di Vion come moderno, non è un exusazio non petita relativamente al classico moderno, ma è, credo, senza discussione anche proprio la stessa fortuna di traduzioni e ritraduzioni o riscritture biloniane e una genealogia che lo lega ai poeti simbolisti francesi decadenti e poi di lì anche agli italiani come Ungaretti e poi Montale che hanno sempre riconosciuto una filiera, diciamo, ben precisa che giustifica davvero la sua fortuna tra i moderni, oltre che la sua posizione, diciamo, di trapasso. Ma nonostante tutto questo, potrebbe essere un bel esergo di questo intero convegno, la frase conclusiva di Ceronetti che pure l'esistenza di migliaia di traduzioni di un testo riuscirebbe a limitare la sua paurosa disponibilità all'unità possibile, cioè si può sempre tradurre di nuovo, si può sempre aggiungere un tassello, però nell'aggiunta di un tassello si può anche perdere qualcosa, qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli, credo. Non sono migliaia le traduzioni di Vion, ma sono comunque tante in italiano ed è strano che manchi a tutt'oggi uno studio specifico di insieme su questa produzione, data anche l'importanza riconosciuta che Vion ha avuto come modello, non soltanto come effettivo autore tradotto. Qui vi porto soltanto, diciamo, l'unico titolo di cui io sia conoscenza sostanzialmente di Giuseppe Antonio Brunelli, relativo però a una sola traduzione, un solo testo più famoso come la ballata degli Impiccati, che è importante perché Brunelli è stato fatto in causa, è stato un critico, tra i più significativi in Italia, ma anche un traduttore, ha più riprese tra l'altro, quindi ha proprio una serie di ritraduzioni dello stesso testo e di Vion increscendo, cioè sempre più poesie, però diciamo è uno studio un po' che potremmo dire pretestuoso, ma nel senso buono del termine, cioè di pretesto premessa a una nuova ritraduzione. L'altro contributo che cito di Brunelli è semplicemente una ripresa, ma nel tuo ampio quadro della storia della critica anche di Vion, quindi lettori in senso largo, ma cito anche un titolo invece che dà dimostrazione dell'importanza di Vion anche come modello, in caso modello metrico, ma anche tematico, per qualcosa che è a fine, la riscrittura, la rielaborazione si è detto anche ieri, è comunque molto vicina e lo vedremo con un esempio finale, spero, al caso della ritraduzione. Diversamente nell'ambito anglosassone, dove fosse ancora maggiore la fortuna anche in termini quantitativi della poesia di Vion, abbiamo, e qui porto soltanto due esempi, ma così come promemoria di ciò che si potrebbe fare anche in ambito italiano e con questo passo a questa schermata in cui ho cercato di far stare in una sola pagina e da vedere più che altro a colpo d'occhio, non è che ho il tempo né intenzione di interviarvi con una analisi dettagliata di tutte le traduzioni di tutti i traduttori. Parto da Guido Mazzoni, 1906, come unico esempio che qui riporto di traduttore di una sola poesia, semplicemente perché il saggio di Brunelli precedente dava quella data, e poi si scorre, si può vedere, insomma si va increscendo, le traduzioni si collocano soprattutto nella seconda metà del Novecento, anche se abbiamo già negli anni trenta, un incremento significativo. Non sono tutte integrali, posto che comunque il corpus villoniano pone anche dei problemi di attribuzione, soprattutto per le ballate più difficili, quelle in gergo, tradotte però già nel 34 da Natale Ciovi per l'editore Carabba, all'epoca molto importante, soprattutto nel campo delle traduzioni dei classici. Quello che si può notare è che ci sono nomi di un certo peso, non ho riportato qui, per la ragione che ho appena detto, Vincenzo Caldarelli, traduttore anche della Bellata degli Impeccati, ma abbiamo dei poeti del valore di Diego Valeri e di Luciano Erba, poeti e anche francesisti di formazione e di docenza universitaria, ma ci sono anche, sempre tra francesisti universitari, meno poeti, ma poeti nel tradurre di Yon, come Giuseppe Bartone Brunelli, come Luigi Denardis, e poi più, diciamo, un livello di servizio, di traduzione alineare, Maria Antonio Viborio e Emma Stoicoli-Mazzariol, che però, curatrice del meridiano, che però per la traduzione ha lavorato in collaborazione con Attilio Carminati, che poi tra l'altro ha tradotto di Yon anche in veneziano, c'è dunque anche una curiosa appendice dialettale, anche in ambito salentino con Francesco Politi e milanese con Recalcati e Zuccato. Ci sono poi, si riconoscerà, traduttori anche, non solo dal francese, nella loro opera, Mussapi, Loriana Farinella, Rina Saraghi-Gilito e altri, e ci sono traduttori, e questo è importante in rapporto a quello che dicevo qui, ma come per esempio il caso di Garibaldi, ma non soltanto lui, che hanno tradotto anche Baudelaire e Poesie Berlin e altri poeti del simbolismo francese. E soprattutto possiamo vedere, per agganciarci anche a quanto dicevamo ieri, dal punto di vista editoriale, fare storie delle ritraduzioni significa anche fare un po' storie dell'editoria, sia pure attraverso un focus specifico, vediamo che il catalogo riporta molti editori, editori importanti o anche minori, soprattutto di recente, e conferma un po' quello che è già emerso ieri, cioè la volontà di avere un classico di catalogo che non può mancare, insomma, non si deve essere sguarniti su questo autore. E la storia, da questo punto di vista, può essere completata con altri esempi che coprono un po', diciamo, anche alcune lacune, sia in senso cronologico che editoriale, e che testimoniano ulteriormente la difficoltà del tradurre di Gnome o la difficoltà di alcune vicende editoriali di cui si può essere a conoscenza soltanto attraverso un'analisi di carteggi e archivi. Qui vi riporto tre casi, presumo che non mi sorprenderebbe se ce ne fossero altri, e di Vion mancate, di traduzioni di Vion mancate. Quella, due, in casi su tre, hanno come Deus ex macchina editoriale Elio Vittorini, che aveva proposto a Corrado Alvaro una traduzione per Bonpiani, di cui poi si sono persi le tracce, il progetto forse abortito. È arrivato molto più avanti il progetto per Inaudi di Francofortini, di una traduzione parziale del testamento di Vion, conservata inedita a Siena e all'artiglio Fortini, dopo vi darò qualche assaggio, rimasta inedita e incompiuta con molte incertezze in fasi relazionali di correzioni. Prima parlavo di autunno, qui sono i famosi dieci inverni di Fortini tra anni 40 e anni 50 di traduzioni da sopravvivenza. E poi c'è il caso di un autore proietta e traduttore meno noto, il salentino Vittorio Pagani, che nel carteggio con Oreste e Macri dissemina diciamo tutto un caillet d'oleans per traduzioni mancate di Baudelaire e altri autori, compreso Vion. E qui ho contato ben quattro editori che rifiutano un po' alla volta, dopo l'inizio l'interesse in tutto Vion. Sono Guanda, Sanson, Biazzanti e Neripozza. Neripozza è interessante per la data, siamo nel 57, perché se torniamo indietro vediamo che nel 62 esce per Neripozza la traduzione di poesie scelte, attenzione, non integrale, a cura di un francesista come De Nardis, che poi passa nel catalogo di Feltrinelli e va a rimpiazzare quella precedente in cofanetto più ampia di Acura, di Nella De Paoli e Roberto Vecchi. Ma fatto questo quadro iniziale direi che è il momento di passare ai testi e partendo dalle traduzioni più recenti che, come vi ho detto, non mi soddisfano sostanzialmente. Le trovo un po' discutibile sotto vari profili, soprattutto quello, diciamo, stilistico, metrico. La volontà nel caso di Antonio Garibaldi di rendere e così di appiattire un po' la poesia e di non rendere correttamente, sappiamo che Dion usa prevalentemente l'optosyllab, Garibaldi lo trasforma quasi in modo uniforme, con qualche settenario ogni tanto, sostanzialmente di Indecasino. Mentre Fabrizio Manfioletti decide di tradurlo in rima, rivendicando nell'introduzione la scelta della rima, dicendo che non c'è stato nessuno prima di me che ha tradotto Vion in rima rispettando lo schema di rima. Potremmo dire bene, è una scelta filologica, una scelta coerente, ma coerente fino a un certo punto. Chi può stare a scegliere? Sappiamo che nelle traduzioni c'è un gioco di compensazione, di pieni di vuoti. Allora Manfioletti mantiene sostanzialmente lo schema di rima dell'originale, ma per esempio nella famosa ballata delle dame del tempo passato fa venire meno il ritornello, come potete vedere. Quindi per ragioni dovute alla gabbia della rima non c'è un verso finale che corrisponde, che risuona. E allora mi potremmo dire che cosa è più importante, il refrain o la rima interna a ogni strofa. Io penso più alla prima. Su questo passo c'è da dire qualcosa di più per tornare a dove sono cominciato, cioè quel sintagma, la locuzione avverbiale d'antano, famosissima, passata in proverbio, per modo di dire. Lo nota anche, ed è costretto a notarlo pure nella notazione sovria, a un vero principato della traduzione di Garivaldi per Inaudi, una traduzione quella di Garivaldi che è stata molto lodata e anche premiata, ma che diciamo a me non convince a partire da qualche semplice tassello che ora vi presento. Per esempio proprio la traduzione, e non è un caso forse che siano le traduzioni più recenti, paradossalmente potremmo dire che il passato prossimo è diventato remoto nel tempo, questa espressione è d'uso comune anche oggi, anche in italiano, d'antano nel senso di un passato e anche di un passato lontano, come traduce per esempio in un caso manfioletti, ma etimologicamente e all'epoca di Vion, e basterebbe un buon vocabolario del francese, anche contemporaneo, che riporta però il senso etimologico de ante annum dell'anno passato. E non è baratte bene una pedanteria etimologica, perché se leggiamo con attenzione il testo, il testo ha una sua successione ben precisa di strofa in strofa, si parte da un passato antico, non passato classico, dame citate nella prima strofa, e poi si scopre e si avvicina all'autore, e l'autore volontariamente alterna questi tempi rispetto a un passato prossimo, che è l'anno precedente, dove sono le nevi dell'anno precedente. E questa è già una resa che non convince appieno, a maggior ragione nel caso del titolo, del titolo vulgaro, che in Garibaldi diventa donne, e diciamo annacqua un po', insomma, le dame non è la stessa cosa, chiaramente da un punto di vista sociale, da un punto di vista di prestigio, anche da un punto di vista di lingua letteraria, e tanto più considerando che dama in italiano è un francesismo di applica d'arte, insomma. Ed è una svista, un oblio che caratterizza per esempio anche la produzione di Roberto Mussatti, anch'essa recente, ma potremmo andare oltre. Cugina, Cugina Germana, Cugina Germana è l'originale. E qui basterebbe, un po' tutti i traduttori hanno mantenuto, e giustamente, seguendo il consiglio di un commentatore del livello di Ferdinando Neri, il suggerimento di mantenere l'originale, che permette anche di mantenere tra l'altro la rima con la romana, ecco, con l'aggettivo romana al secondo verso. Perché Cugina Germana è una locuzione che in francese, all'epoca di Lyon, aveva già mantenuto, già assunto, come anche in italiano, il valore estensivo di affine, di simile, cioè non un valore proprio di vincolo di sangue, che può essere mantenuto come tale e potrebbe sembrare ridondante, ed è questo il motivo per cui Gaivaldi omette l'aggettivo. Ma omettendo l'aggettivo dà un valore che per qualsiasi lettore italiano è di un vincolo di sangue, di un effettivo legame, quale non è, ovviamente, se andiamo a leggere le note dei personaggi citati, che possiamo conoscere anche solo per fama, Cibiade nel Medioevo, il Tardo Medioevo era considerato donna per un agore di commento dal testo di Borezio, ed è quindi anche questa una scelta che trascolora, che ovvia un senso preciso dell'originale, così come anche delle integrazioni che sono dovute soltanto alla necessità delle decasillebre, sono sostanzialmente delle zeppe metriche, ripetizioni, deittici, aggiunte non dovute, perché Eloisa è citata nella seconda strofa dove si celebra la saggezza e l'intelligenza femminile, a differenza della prima dove si canta la bellezza, oppure anche aggiunte come quelle di, anche qui, neanche necessariamente metriche, del articolo indeterminativo davanti a Giglio, non è un Giglio qualsiasi, ma è chiaramente il Giglio di Francia, insomma, e quindi le traduzioni precedenti, o anche quella di Manfioretti come Giglio, hanno un maggiore senso e un maggiore rispetto dell'originale. Oppure, possiamo vedere anche un altro caso, passando a Manfioretti, che senza una particolare ragione rende la prima strofa come un'allocuzione alla seconda persona, e quindi anche tu e altre rese che hanno la stessa ragione di fare il verso, insomma, sono aggiunte fondamentalmente non necessarie, viene risolta, trapassa proprio il personaggio della ninfa eco, da nome proprio a nome comune, a fenomeno acustico qualsiasi, che fa venire a meno proprio anche la matrice ovidiana del passo, su cui magari troverò a ritornare. Ho aggiunte che hanno un sapore prosastico, come questo rimanendo in argomento, per Saint-Bla-Brumont, in rima però, ecco, che fondamentalmente hanno una scarsa coerenza perché uno dice, beh, se abbiamo la volontà di tradurre in rima, per quale motivo inserire anche una serie di espressioni così fortemente prosastiche, e a questo oppure anche errone da un punto di vista di storia poetica, come la resa del Refrain, che Gaivaldi rende bene con Ritornello, ma Fioretti con Stornello, che richieggia soltanto l'espressione ma non ha alcun valore etimologico e nella storia della lingua italiana e proprio poetica Stornello ha più altro significato. Ma vado oltre, perché parlavo prima di sintagmi prosastici che fanno capolino nel verso e che sostanzialmente rendono poco coerente la resa. Beh, Garibaldi, io leggendo soltanto questo al di sopra, ho detto, ma non mi ha convinto, perché rendere deciso al di sopra? Eh beh, al di sopra è, guarda caso, la resa precedente di servizio di Maria Antonio Livoglio, di servizio fino a un certo punto, insomma, allineare, allineare è la traduzione che riecheggia, insomma, in modo ritmico, senza la necessità di rispettare sempre una scansione metrica, in questo caso è un perfetto indecasinero, però il caso è che se noi andiamo a controllare, e dopo vi porto un altro esempio, notiamo tante somiglianze, notiamo veramente una, come questo nel corso dell'anno, cioè una ritraduzione, quella di Garibaldi che porta, lascia in luce quantomeno il sospetto di essere stata fatta non soltanto dall'originale, ma attraverso una traduzione di servizio, ecco, che è cosa nota, che accade spesso, che fa ripensare un po' a quelle traduzioni di seconda o terza mano e che però, soprattutto nella resa, per esempio, di questo destino, no? A proposito della castrazione di Abelardo, dove quel S1 ha un preciso valore che, anche qui, dizionari alla mano, che si trovano anche ben inteso con un click su internet, del medio francese o anche del francese moderno, con dovuti rimandi, beh, quella è proprio una mutilazione. E basterebbe anche l'italiano, il radicale bisogno, cioè la mancanza di qualcosa di necessario, ecco, oppure anche in versioni fondamentalmente non necessarie, i nomi propri, ecco. Andando, andando oltre, qui non vi commento un momento perché mancano cinque minuti. Sì, sì, appunto, salto altri passi dove, per esempio, tornando un po' indietro nel tempo, delle rese che non vogliono riprendere necessariamente l'indica sindaco e permettono un maggiore, una maggiore eco anche del francese, mi traduce Botei Belpa, per esempio. Chiaramente poterà essere una resa efficace al tempo, oggi magari no. Andando oltre, però, vi riporto qui una dimostrazione proprio filologica della corrispondenza, della vicinanza degli arrivati alla traduzione di Granitano di Iborio, attraverso delle rese specifiche, anche delle inversioni rispetto all'originale, quindi questo considera anche dal terzo verso finisce al quinto, e poi un po' di sostituzioni che hanno soltanto l'effetto di mascherare, diciamo, il modello, che rispetto è più la traduzione di Granitano di Iborio che non l'originale di Fillon, oppure delle rese come questo doveito il prode Carlo Magno, per il ritornello della ballata dei principi, che è fondamentalmente, oggigiorno almeno, ha un po' il sapore di un'ermata bancaleone, ecco. Così anche il plurale del restaurant della ballata in antico francese, che fondamentalmente non è coerente essere rapportato alla prima strofa, magari è coerente se considerato, quindi porto un po' il testo quasi nella sua interezza, se considerato nell'insieme. Tutto sommato, salto questo esempio e vado a questo, più significativo, perché parliamo appunto di un poeta come Luciano Herba, che così, a vedere soltanto ad occhio potrebbe sembrare aver distillato l'irricamento un po' troppo, essere natore essenziale. In realtà Luciano Herba qui fa una traduzione filologica a partire dal titolo, che è quello proprio del manoscritto, e quindi canzone, fa una traduzione che si basa su ciò che di Vione è stato davvero conservato dalla tradizione manoscritta. Ciò che ho indicato qui in grassetto sono integrazioni editoriali. Herba traduce soltanto quello, e lo traduce non in decasillabi, quali sono quelli di Garibaldi rifatti a partire da questo appena uscito sul testo di Borio, o con aggiunte quasi barocche come Impire a Magione, e lo fa con una scansione diversa, tra decasillabo e novenario, che rende molto di più il senso tragico di questo ritorno dalla tua prigione. E quindi secondo me in maniera molto più convincente e molto più efficace. In conclusione, siccome prima ho detto e sono partito dalle dame, ecco, e dalle dame in contraposizione alle donne, e ho parlato della rielaborazione che affianca spesso la traduzione, e forse di rielaborazione si può parlare anche nel caso di Luciano Herba, che traduce una decina, una dozzina di libri che di milioni all'interno di una sua raccolta di poesie, ebbene, ho detto sono dame e non sono donne. E uno dei titoli che ho citato all'inizio aveva fatto riferimento a Edoardo Sandinetti, che nelle sue ballate ha ripreso spesso modelli o metrici o tematici proprio di milioni. Qui abbiamo un esempio di una ballata delle donne che è coerente, perché di donne si tratta le madri, le ragazze, le mogli, eccetera, che vedete indicate in grassetto, mentre sono dame quelle di Giovanni Raboni, un esercizio di riscrittura villoniana, che è però sostanzialmente e paradossalmente più villoniano di traduzioni come quelle recenti che ho analizzato, sia pure proprio per sommi capi. Ed è una interessante ripresa, perché potremmo dire è una enucleazione di quel riviero, di quello stagno dell'originale villoniano, con una personificazione, un correlativo oggettivo, sono dunque delle dame, delle madame, donna, la gironda e la risola sono intesa nel senso appunto di madonna, madame, come vedete tutte le altre espressioni che ho evidenziato in grassetto, di fiumi, di fiumi che sono acque che sviluppano quel fluire, fluire dell'acqua di anno in anno, che è un ritornello reso coerentemente in questa poesia e che ha un suo senso ulteriore, se letta in rapporto alla poesia precedente del canzoniere di Raboni, cioè sull'acqua in cui appunto il poeta scrive che le parole sbiadiscono, svadiscono, perdono senso e suono secolo dopo secolo, che è un po' forse quello che è emerso o che può emergere ancora con ulteriori scavi e analisi nello studio delle traduzioni di Dion, considerato però che appunto è un oblio, un oblio delle lingue, che non significa una dimenticanza totale, che non significa la perdita di un eco, è un po' un discorso, richiamando il saggio di Helen Rosen dell'inizio, un discorso quasi di intermittenza trustiana e dunque sono quelle parole, non tutte o quasi quelle svaniscono le parole, tranne quelle scritte sull'acqua, che continuano a scopere, quindi di qui io penso che ci sarà ancora sicuramente tempo e spazio per nuove ritraduzioni billoniane e con questo vi ringrazio. Grazie mille Luca, allora passiamo subito al secondo relatore, poi lo spazio delle domande si apre dopo l'anno. Massimiliano Morini è professore associato di lingua e traduzione e lingua inglese all'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, si occupa prevalentemente di teorie, storie e pratica della traduzione e di stilistica letteraria storica e multimodale, vi cito qualche titolo dei suoi libri, The Pragmatic Translator, Tudor Translation in Theory and Practice, tradurre l'inglese, per il mio pieno, Jane Austen's Narrative Techniques, A Day in the News, e ha pubblicato saggi articoli in alcune delle più importanti riviste internazionali del settore e come traduttore ha lavorato sul linguaggio poetico e drammatico, sulla narrativa e sulla prosa saggistica. Sta preparando un'edizione critica della prima traduzione inglese del pastor Fido Di Guarini per la Modern Humanities Research Association. Ci presenta oggi un intervento dal titolo Teatro e canone, canone e traduzione di pastor Fido in Inghilterra. Grazie Massimiliano per aver accettato il libro. Grazie a te, grazie a voi. Dunque, sto condividendo lo schermo, mi sentite e vedete il frontespizio? Ok, perfetto. Bene, benissimo. Allora, intanto ieri e anche stamattina abbiamo parlato per lo più di traduzioni, diciamo, più o meno contemporanee, novecentesche, insomma io essendo nato ampiamente nel Novecento, considero le traduzioni novecentesche traduzioni di oggi. Io parlerò di una cosa lievemente diversa o perlomeno adattarò una prospettiva cronologica lievemente diversa. Vi parlo infatti di traduzioni classici, di un classico in particolare che è, come vedete, il pastor Fido, la tradicommedia pastorale di Guarini, di un classico tradotto a partire da fine del Cinquecento e poi per tutto il Seicento, ma solo di quelle traduzioni lì. Esistono rare traduzioni contemporanee, però in un certo senso possiamo, grazie al pastor Fido, e grazie alla parabola della fortuna del pastor Fido, guardare questo caso qui come se fosse un esperimento osservato in laboratorio, cioè guardare cosa succedeva alle traduzioni, quindi anche alle ritraduzioni di classici, in questo caso nel Seicento. Dico questo perché il pastor Fido, di cui qui vedete la prima edizione a stampa italiana, la data che c'è dentro il dispizio è il 1590, ma in realtà l'anno dell'edizione Bonfadino è il 1589, dicevo, il pastor Fido è un libro, è un testo drammatico, è un'opera drammatica, l'ambiguità ha poi un riflesso in quello che vado a raccontare, che ha una popolarità e acquisisce un prestigio enormi subito, e per più di un secolo direi, ma soprattutto per tutto il Seicento in Italia e in Europa, e poi di fatto non dico che scompare, perché è ancora in qualche modo un classico di nicchia, ha ancora le sue edizioni critiche, l'edizione critica italiana contemporanea è quella di Elisabetta Selmi del 99, pubblicata con Marsilio, mi pare che la seconda edizione sia il 2014, ottima edizione, però, ed è ovviamente nelle antologie, nelle storie della letteratura e così via, ma di fatto è un testo ormai, a parte il fatto che è solo un testo, non viene praticamente più rappresentato, ed è un testo che interessa ormai soltanto gli specialisti, tanto che è difficile trovarlo in libreria, per esempio, o nelle librerie privati che non siano italianisti o persone che hanno avuto la pessima idea di accettare o di fare un'edizione critica di una sua traduzione. Mentre si trova, per esempio, facilmente in libreria, più facilmente comunque l'altra favola pastorale, l'altro dramma pastorale famoso di fine Cinquecento, sul quale in parte il pastor Fido si modellava, ma solo in parte, l'altro testo famoso, in una congerie enorme di testi drammatici pastorali dell'Italia cinquecentesca, che è ovviamente la Minta del Tasso, la Minta del Tasso in libreria, in genere, se la libreria è abbastanza grande, si trova o in un'edizione singola, oppure nelle opere del Tasso, nelle opere drammatiche del Tasso, in qualche modo si trova. Il pastor Fido è scomparso, o perlomeno è scomparso il gusto per il pastor Fido, è scomparsa la capacità di apprezzarlo, e quindi siamo proprio in grado di vedere un fenomeno che è del tutto quasi coevo all'opera in questione, al classico in questione. E credo che questo possa essere interessante come, diciamo, aggiunta rispetto alle interessantissime panoramiche di traduzioni più o meno attuali che abbiamo fatto finora. L'altro motivo per cui è particolarmente interessante, o perlomeno cerco di dimostrarvi, che lo è, guardare il pastor Fido e le sue traduzioni seicentesche, è che, avete notato prima la mia ambiguità nel definirlo, il pastor Fido è un'opera teatrale. Nasce come opera teatrale, noi qui abbiamo già il testo a stampa, però di fatto nasce a Ferrare, nell'ambiente in cui il teatro pastorale è di gran moda. La Minta ha avuto il suo piccolo successo di corte. I Guarini scrive questa cosa al fine di rappresentarla. Poi la rappresentazione avrà, le rappresentazioni del pastor Fido è una storia che non sto qui a introdurre, è un po' travagliata anche un po' per la personalità di Guarini, anche perché è un testo enorme e veniva rappresentato addirittura con gli intermezzi aggiuntivi. Quindi, Guarini insisteva per rappresentarlo in toto e con precisione, quindi insomma questo non lo aiuta. Da questo frontespizio vedete, dalla dedica, che c'è uno dei tentativi non riusciti di Guarini di rappresentarlo in ambito dinastico di corte. Ma ad ogni modo, questa è un'opera teatrale, questo ha stampato, tutte le stampe successive sono testi drammatici, allo stesso tempo è un'opera teatrale scritta in versi, ovviamente, e quindi Guarini passa velocemente alla storia, perlomeno alla storia contemporanea, alla storia si è cintesta, come grande poeta. E su questa ambiguità si giocano poi le varie ritraduzioni. Prima di guardare a queste ritraduzioni, in particolare di guardare a quelle inglesi, dovremmo, credo, cercare, se riesco a girare pagina, dovremmo cercare di avere un'idea della media pratica materiale dell'enorme popolarità del pastofido. Ripeto, popolarità oggi a noi può sembrare strano, molto più ampia di quella della mita. Per farlo basta, per esempio, guardare questa, che è la seconda, credo, edizione Ciotti del 1602. L'edizione Ciotti del 1602 è importante perché è la prima in cui Guarini iscrisce anche le sue annotazioni, come qui probabilmente non riuscite a leggere, perché la foto non è buona ed è anche piuttosto piccola, e il suo discorso sulla poesia tragicomica, che poi è un compendio di saggi scritti in precedenza. Cioè, in pratica, Guarini già in vita crea un'edizione critica della sua stessa opera, il che in qualche modo attesta il fatto che è già diventata un classico. Al di là di questo, forse riuscite a leggere, il fatto che questa, che appunto dovrebbe essere la seconda edizione del 1602, si vanta di essere la ventisettesima impressione. Quindi nel giro di 13 anni ci sono già state almeno 27 edizioni italiane. Dico almeno perché può darsi, anche se sembra una banteria poco credibile, in realtà può anche darsi che ce ne siano state di più. Io non ho cercato di fare il conto, ma semplicemente mi sembra improbabile che Ciotti o Guarini avessero del tutto contezza di quello che veniva stampato in giro per l'Europa, perché in giro per l'Europa venivano stampate anche edizioni in italiano. Questa è la prima edizione del Pastor Fido in Inghilterra, non è la prima edizione inglese, ma è la prima edizione del Pastor Fido in Inghilterra, fatta a spese di Giacomo Castelvetri o Giacomo Castelvetro, anche qui non mi addentro, sono cose che veramente possono interessare solo a chi sta facendo un'edizione critica. del 1591 stampata con John Wolfe, che è lo stampatore londinese di cose italiane, e nella sua introduzione, John Wolfe ancora per darmi l'idea di quanto diventa subito importante questo libro, qui siamo a un anno e mezzo dalla prima pubblicazione italiana, John Wolfe di Castelvetro dice ho deciso di stampare questo libro perché era troppo difficile farlo arrivare dall'Italia. E quindi tanto valeva stamparselo direttamente qui, perché conoscevo molta gente che lo voleva. Naturalmente io sto parlando direttamente delle stampe, però Guarini aveva cominciato a lavorare al Pastor Fido intorno al 1583 e già prima che venisse stampato in tutta la fase di revisione in cui lui aveva coinvolto varie figure di intellettuali del nord e nord-est italiano, il Pastor Fido era diventato famoso, prima che venisse rappresentato o stampato. Bene, queste le edizioni italiane, ma naturalmente compaiono anche moltissime traduzioni, a partire dal 1593, credo sia la prima edizione francese. E la cosa impressionante di queste traduzioni e ritraduzioni è la quantità, la frequenza e la qualità. Per la quantità posso fare semplicemente qualche numero, ci sono quattro edizioni tedesche, dalla fine del 1500 alla fine del 600, cinque francesi, sto parlando solo delle edizioni integrali, non di pezzi, rifacimenti, eccetera. Quattro tedesche, cinque francesi, tre spagnole, quattro inglesi, noi ne guarderemo tre, cinque olandesi, una popolarità incredibile in Olanda, nederlandesi dovrei dire, e altre curiosità, una polacca, eccetera, e altre curiosità come una versione bergamasca e questo Pastor Fido in lingua napolitana di Domenico Basile del 1628. Quindi, e molte di queste traduzioni, fra l'altro, vengono ristampate più volte. molte di queste traduzioni si sovrappongono, quindi c'è una specie di concorrenza tra una traduzione e l'altra. Qui torna a una cosa che è stata detta o quasi data per scontata ieri, cioè, quando noi pensiamo alle traduzioni, alle ritraduzioni contemporanee, pensiamo sostanzialmente a due cose, adesso sto mescolando probabilmente cose che hanno detto ieri Antonio, Andrea e Elisa, se non sto sbagliando i nomi, insomma, perdonatemi se non vi cito con precisione, singolarmente, però sostanzialmente mi sembra che ieri sia stato dato per scontato e giustamente che al giorno d'oggi quando un testo viene ritradotto è perché o le traduzioni precedenti sono invecchiate o perché c'è una specie di concorrenza fra case editrici. In Italia in particolare noi abbiamo una certa situazione che conosciamo, case editrici con diverse collocazioni che si fanno più o meno concorrenza o si complementano, si completano a vicenda come readership, diciamo. Forse è stata addombrata, perlomeno da Antonio, se non ricordo male, e forse in parte anche nell'intervento immediatamente precedente al mio, su Guion, è stata addombrata anche l'idea che ci possa essere a tratti della concorrenza o che comunque il fatto stesso che uno ritraduca un testo significa che è cosciente delle versioni precedenti, che a volte le può usare, per esempio, e spesso, che le usi o no, può trovarsi in una specie di lotta, di gara con le versioni precedenti, oltre che magari con il testo di partenza. Ecco, credo che quando pensiamo alla traduzione e soprattutto alla ritraduzione di un testo, alla ritraduzione così frequente di un testo, nel 5-600, nel rinascimento, tardo il rinascimento europeo, dobbiamo pensare, non dico soprattutto, ma anche in questi termini. Credo che, intanto, quando un testo mi è ritradotto così tanto, e forse mi viene in mente solo Petrarca, che però è un po' un altro discorso, perché spesso le traduzioni di Petrarca sono parziali, a parte quelli di Trionfi, insomma. Solo Petrarca ha più ritraduzioni in termini di opere contemporanee, diciamo, moderne, moderne europee. E l'altro testo che mi viene in mente è invece un testo classico, che è l'Eneide, il testo per eccellenza, l'altro testo che crea questa necessità, questo bisogno di ritradurre continuamente. E allora, nel caso delle ritraduzioni secintesche, credo che dobbiamo vedere le cose in maniera lievemente diversa rispetto alla modernità. Cioè, da una parte, c'è sì, un impulso economico, commerciale. Se un testo è così importante e considerato un classico fin dall'inizio, classico naturalmente è una parola che uso io una cronistica, può valer la pena stamparlo, ristamparlo, rifare delle traduzioni, avere la propria traduzione da mettere in commercio. In parte c'è anche, però, l'idea che se un testo, un certo testo è un classico, allora tradurlo significa misurarsi con quel classico, dimostrare che si è in grado di non solo tradurre, ma di scrivere. c'è una consapevolezza molto più serena del fatto che il traduttore è uno scrittore nel rinascimento, che in parte è uno scrittore. e quindi c'è un elemento anche, c'è un elemento di curriculum, sto, se vogliamo, noi accademici questo possiamo capirlo, ho tradotto Joyce, Virginia Woolf, eccetera, quindi posso partecipare a questo concorso di abilitazione. c'è un elemento di curriculum nel senso che se io pubblico una certa traduzione da una certa lingua dimostro, che conosco quella lingua dimostro che so scrivere in un certo modo e quindi posso sperare di avere un posto che so, a corte come diplomatico nel 500 o come istitutore di un principe di un giovane o di una giovane nobile, eccetera. E c'è un elemento per l'appunto anche di gara, gara con il testo di partenza, gara in certi casi con il testo d'arrivo. Questo mi porta a dire un'altra cosa generale su tutte queste, quasi tutte queste traduzioni europee del pasto a filo. Questa che vedete qui, quella lingua napoletana, è un'eccezione parziale nel senso che è scritta in un linguaggio popolare e piuttosto teatrale. Ma in generale sostanzialmente tutte queste traduzioni del pasto a filo, quasi tutte, ripeto, sono traduzioni poetiche. Il pasto a filo rappresenta un paradosso della storia teatrale italiana nel senso che diventa rapidamente il testo drammatico pastorale per eccellenza, ma lo diventa in un periodo in cui, o perlomeno da lì a poco, il teatro pastorale entra in una lenta decadenza o, se vogliamo, anche in una trasformazione, nel senso che poi molti dei modi e degli stili del teatro pastorale passano, per esempio, al teatro musicale, c'è una versione di pasto a filo di Handel dell'inizio del settecento. E quindi, molto rapidamente, siccome Guarini è un poeta che scrive teatro, questo testo diventa per l'Europa che scrive e traduce un testo poetico e la stragrande maggioranza delle traduzioni che noi abbiamo nelle varie lingue non la totalità per fortuna sono traduzioni sostanzialmente poetiche il che significa che sono traduzioni fatte in un certo modo cioè sono traduzioni fatte alla maniera moderna e non diciamo così alla maniera medievale scusate se condenso due trecento anni di storia della traduzione della teoria della traduzione in poche frasi lo farò in maniera rosa e potete tranquillamente contestarvela dopo ma gli umanisti sono primi teorici della traduzione sono teorici della traduzione per forza di cose perché lavorano con la traduzione a esplicitare i primi diciamo dell'epoca post romana a esplicitare l'idea che quando si traduce si debba lavorare in senso trasformativo sulla elocuzione in sostanza lasciando stare invenzio e disposizione quindi non si aggiunge non si toglie non si modifica il finale non si mette una morale come poteva fare un monaco medievale anche un copista oltre che un traduttore si lavora e allo stesso tempo si cerca di si sforza di produrre in modo creativo e quindi sempre più competitivo con il passare del tempo l'elocuzio questo naturalmente all'inizio solo con testi seri importanti come Aristotele dal greco al latino poi piano piano la marca di testi importanti di capitale culturale passa all'eneide sto semplificando orrendamente sul piano storico e piano piano tutta una serie di testi anche moderni anche italiano in francese eccetera acquisiscono questa marca di classico di capitale culturale semplicemente dirla in modo moderno e vanno a quel punto tradotti in questo modo quindi la maggior parte di queste traduzioni poetiche fa questa cosa traduce il testo di Guadini senza tagliare senza aggiungere senza cambiare e semplicemente cercando ogni traduttore di dimostrare che è capace di scrivere in versi magari nella sua forma diverso non è detto che ci sia un tentativo di isometria stilistica che è abbastanza raro nel nascimento anche se esistono casi di questo genere con l'eneide per esempio perché questo si fa quando si traduce un grande poeta non necessariamente qualsiasi poeta ma quando si traduce un grande poeta in genere si fa questo ora le traduzioni inglesi passo all'Inghilterra Francesca dimmi pure quando mancano cinque minuti perché a quel punto taglio le traduzioni inglesi sono particolarmente interessanti io ne considererò solo tre perché la quarta è rimasta manoscritta quando il suo autore ha saputo che stava per uscire questa traduzione la traduzione più famosa quella di Fancho del 1647 le traduzioni inglesi sono particolarmente interessanti perché di fatto rappresentano tre modi diversi di tradurre il pastofilo parto da quella mediana la traduzione di Fancho del 1647 la più famosa quella di cui esistono anche edizioni contemporanee ecco questo è un segno come dicevo del fatto che il pastofilo non ha più la stessa centralità culturale che aveva nel seicento al giorno d'oggi per lo più quando troviamo delle nuove cioè non troviamo nuove traduzioni del pastofilo in Europa tendiamo a trovare ristampe magari critiche di vecchie traduzioni edizioni critiche di vecchie traduzioni io sto aggiungendo mi sto aggiungendo alla compagnia dicevo questa è la traduzione considerata più importante storicamente ed è una traduzione assolutamente poetica il libro in cui è stampata è un inquarto quindi non un libro preziosissimo in termini proprio cartacei diciamo così allo stesso tempo è un inquarto molto elegante molto illustrato con molto paratesto nel partesto c'è per esempio una dedica di Fancho perché questa è un'edizione assolutamente realista monarchica al principe esiliato quello che diventerà il restaurato Carlo II mondo oltre a questo c'è anche e quindi torniamo all'idea della traduzione poetica come diciamo curriculum come dimostrazione delle proprie abilità da presentare magari alla persona importante influente oltre a questo c'è una famosa una famosa poesia dedicatoria di John Denham che è quella in cui John Denham sostanzialmente parafrasa in in inglese l'idea delle belle infedeli insomma e loda Fancho per aver essersi rifiutato di seguire ve lo dico in inglese che faccio prima that servile path thou nobly dost decline of tracing word by word and line by line quindi loda Fancho per essere stato creativo e non aver seguito parola per parola riga per riga il testo di partenza in questo stesso questa stessa poesia dedicatoria Denham fa anche un riferimento alla prima traduzione un riferimento coperto ma chiaramente siccome cita di fatto allude a un sonetto del traduttore presente nella prima traduzione sta dicendo a Fancho tu hai fatto una traduzione libera non come quell'altra che invece è una traduzione da schiavi ora la cosa ironica di tutto questo la cosa ironica di tutto questo come vi dicevo essendo questa una traduzione poetica a questo punto non farò in tempo a mostrarvi i testi vi tocca fidarmi a mostrarvi le citazioni essendo questa una traduzione poetica Fancho in realtà fa esattamente questo traduce non parola per parola diciamo ma sicuramente verso per verso l'unica cosa che fa ve lo faccio vedere solo così probabilmente troppo piccolo perché possiate vederlo l'unica cosa che fa in termini di amplificazione è dovuta alla sua scelta di verso che è il distico è il heroic complot insomma il distico di pentametri giambici non rimati che lo costringe semmai a amplificare Fancho segue tutta la struttura dell'elocuzio tutta la struttura delle figure retoriche e anche la struttura discorsiva già sovrabbondante di Guarini il motivo perché Guarini piaceva così tanto allora e non piace adesso è proprio questo che è uno scrittore citazionista e sovrabbondante in un'epoca in cui la coppia retorica l'abbondanza equivale sostanzialmente all'eleganza la bellezza bene Fancho arriva a scrivere con più parole ancora di Guarini ma seguendo in maniera pedissequal le sue figure retoriche e la sua struttura argomentativa ha semplicemente bisogno di un po' di riempitivi proprio per via della sua scelta di metro mentre Guarini scrive in Endicassilva di E settenare nel 1600 no parto dall'edizione del 1602 l'edizione di cui mi occupo io che è quella di cui appunto Denham dice beh questa è una traduzione da schiavi in realtà Dimock sul nome di Dimock ci sono delle altre complicazioni alle quali non vi introduco assolutamente Dimock fa una traduzione in cui molte parti vengono saltate molte parti vengono abbreviate il prologo di Guarini viene cancellato l'argomento di Guarini scompare ed è questa e la cosa interessante di tutto ciò è che questa edizione qui pubblicata da Simon Waterson curata credo in parte anche da Samuel Daniel è un'edizione che non è un'edizione teatrale non è probabilmente mai stata rappresentata ma è un'edizione che cerca di inserirsi nella moda che era nata negli anni 90 di stampare testi drammatici testi drammatici inglesi lo vediamo immediatamente dal fatto che questo è un altro inquarto ma completamente disadoro senza illustrazioni appunto con tagli soprattutto sul paratesto e poi se voi vedete questo stemma questo è lo stemma del stampatore che qui rimane anonimo e che è lo stesso stemma che troviamo in questo Romero Giulietta del 1599 appartiene a Thomas Creed che evidentemente nel 1599 stampa Romero Giulietta perché convinto di farci dei soldi e quindi ci mette dei soldi anche lui e quindi ci mette anche il nome qui non ci mette il nome e quindi dobbiamo pensare che siccome Thomas Creed era quello che ha stampato più testi drammatici londinesi inglesi negli anni 90 e 500 questi editori abbiano pensato di stampare presso di lui questo testo in quanto testo drammatico in quanto presentato per il testo drammatico per lo più in blank verse pentametri giambici non rimati il verso del teatro l'espeziano e giacomiano per eccellenza e con una modalità di traduzione un po' più libera un po' più in cui vengono saltate più cose nel 1677 arrivo a concludere forse ho veramente un minuto nel 1677 Settel fa un'altra cosa che ci dice che la traduzione teatrale e il testo teatrale in generale non ha ancora lo stesso status non ce l'ha neanche oggi del resto non voglio espandermi magari riusciamo a farlo nella discussione non ha ancora lo stesso status della traduzione poetica della traduzione testuale perché Settel cosa fa? riprende la traduzione di Fancho la accorcia qua se riuscite a vederlo è evidentissimo in questo passo ci sono tre versi e mezzo anzi tre versi presi da Fancho in una condensazione però estrema quindi Settel fa questa operazione di traduzione intralinguistica la esplicita tranquillamente perché questa è una è un'edizione che segue a una presentazione a teatro la esplicita tranquillamente dice io non so l'italiano quindi ho preso la versione precedente non nomina Fancho qui torna se vogliamo forse un po' di competizione però dice siccome non era rappresentabile l'ho accorciata molto e l'unica cosa di cui un po' si scusa è del fatto che ha osato portare sulla scena di esteemed lo stimato guariti quindi vedete come la traduzione teatrale da una parte come del resto viene ancora oggi abbia uno status diverso perché il testo teatrale ha uno status diverso nel 1616 Ben Johnson ha deciso di pubblicare le sue opere come Works ed era stato per questo preso in giro aspramente da molti la traduzione teatrale ha uno status diverso si possono fare cose diverse allo stesso tempo questo è anche un autore classico questo è anche un grande poeta e allora questa parte qui questa cosa non il fatto di tradurre teatro ma il fatto di tradurre un grande poeta può creare qualche imbarazzo in termini di traduzione e soprattutto di traduzione molto libera siccome non funzionano mai i finali leganti e volti nei convegni online faccio come fanno di solito i miei studenti cioè a me è semplicemente che chiudo qui grazie 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 mille Massimiliano allora siamo un po' in ritardo ma non troppo in generale quindi a questo punto io aprirei la è la sessione delle domande e previsto una ventina di minuti e niente se mai ritardiamo un po' gli interventi successivi se ci sono domande fatevi pure avanti potete scrivere in chat perché io vi dia la parola oppure prendete anche la parola direttamente senza problemi allora provo io visto che c'è silenzio vado Francesca sì sì vai Andrea grazie mille allora volevo ringraziare ma non è la captazio benevolenza molto molto sinceramente entrambi per i due interventi così diversi ma molto molto interessanti ho imparato tanto e grazie volevo fare una domanda velocissima a entrambi e inizierei da Luca Luca l'adorabile Luca ha amenato e ha amenato anche abbastanza sodo quindi sarà abbastanza sportivo ora da riprendersi qualche sberla perché ne ha date e ne ha date tante allora in modo molto sportivo Luca no? ci conosciamo mi dispiace non vederti con lo zaino aperto purtroppo mi manca questa dimensione non devi dirlo gli altri però ti voglio immaginare con lo zaino di lato aperto ovviamente esatto allora Luca a me è piaciuta tantissimo la tua presentazione e ti ringrazio Villon l'adoro e affrontato con gli strumenti che tu hai o non ho mi ha permesso di conoscerlo ancora un po' di più mi permette solo alcune osservazioni laterali sempre che tu le voglia considerare rispetto a quello che è un approccio alla traduzione fatta ho alcuni appunti ma mi concentro su alcuni la traduzione donne come dame no l'hai definita svista io sono convinto di no sono convinto che sia una traduzione sbagliata brutta da evitare come sicuramente pensi te però sono altrettanto convinto che a monte ci sia una valutazione il traduttore non ha una svista sul titolo questo è un po' una diminuzione che non non articolerei cioè se il traduttore ha scelto donne sicuramente ha delle considerazioni probabilmente non condivisibili d'accordo con te ma fatico a tornare che si tratti di una svista e questo mi porta al anzi prima voglio passare da un altro destino destino è un tema così cruciale in quel tipo di operazione letteraria proprio per il clima da cui esce e ho in mente alcune delle ballate di Villon come le ho le ho lette io da ragazzo il destino dei culi appesi mi viene in mente no? sai cosa che è un'isotopia così importante che dubito anche in quel caso venga da sia in qualche modo mediata dalla traduzione di precedenza e quando anche lo fosse è filologicamente corretto perché è un frame di lettura attraverso il quale si è interpretato un'opera e da un punto di vista filologico ritengo perfettamente sensato poterci ritornare nel momento in cui lo si condivide come interpretazione quindi uno non credo sia scontato che lo abbia direttamente preso dalla traduzione quando anche fosse avvenuto lo ritengo legittimo la ritraduzione nel momento in cui si considera anche l'operazione commerciale culturale letteraria a prescindere dalla prospettiva precedente può entrare in gioco come un punto di auctoritas al quale non poter far torti non ci vedrei niente di male e per concludere la domanda che a un certo punto è posto rispetto a una scelta hai detto ma per quale motivo io Luca penso che quando si commentano le traduzioni degli altri quella domanda sia limitatamente legittima credo che si debba piuttosto io sono qua sto commentando il traduttore non c'è tra l'altro mi rivedrà su youtube considera anche questo da amico quindi va me la dà anche la risposta attraverso un saggio qualunque cosa sta a me cercare il motivo cioè sono io a dover cercare il motivo se non lo trovo quel motivo sono io a non averlo trovato lui sicuramente ce l'ha e il motivo nel momento in cui si traduce può essere veramente diverso legato a un tessuto fonetico legato appunto a una trama di senso che si percepisce non è concentrata in quello spazio della poesia ma che altrove si articola e lì il traduttore la fa emergere può essere legata a delle esigenze per l'appunto di ritmo e di metodo che tu hai esposto benissimo anzi di quella parte ti ringrazio in particolar modo quindi ecco che motivi ci sono se ne facciamo un commento stanno identificarli presupporre che non ci sia secondo me una mancanza di rispetto ecco sicuramente c'è e stanno noi che stiamo facendo dell'analisi identificarlo questo perché ti è menato e mi è piaciuto menarti perché ti voglio bene mi permetto di farlo una persona che non conosco non l'avrei fatto e ti giuro mi è piaciuto tantissimo il tuo intervento se no di nuovo non mi sarei se ti avessi trovato fragilino non mi sarei mai permesso di farti queste osservazioni mentre a a Massimiliano quando ci ha tirato in ballo dicendo allora ieri abbiamo dato per scontato che boh non lo so forse sono così ardito perché ho preso un sacco di aspirine per via di questo raffreddore vai vai hai detto le facciamo quando sono invecchiate quelle precedenti oppure perché c'è competizione commerciale come negarlo è vero però a Massimiliano a me piace anche immaginare il profilo quello idealistico per cui le ritraduzioni e credo che sia stato scritto di recente anche da un collega che ha appena spento la telecamera che è Claudio Giunta e su questo stranamente sono d'accordo con lui le ritraduzioni in realtà sono sempre legittime e ben accettate certo quindi idealmente vengono riproposte per il semplice fatto che sono delle possibilità di piacere che non ci dobbiamo precludere in più a prescindere da competizioni o da precedenti traduzioni fatte male no si può ritrodurre anche se la precedente è fatta benissimo però si ha una volontà di ridare un'ulteriore prospettiva che magnifici sia in grado di esaltare di enfatizzare alcuni aspetti alcuni elementi testuali alcuni livelli del testo che lo merito assolutamente rispondo subito io perché facciamo molto presto no sono assolutamente d'accordo cioè stavo anche lì ovviamente semplificando diciamo che guardavo ai motori principali quelli sociologici se vogliamo ma e poi a parte che parlavo di traduzioni invecchiate non necessariamente peggiori eccetera oppure si hai perfettamente ragione perché non so io vedo i sonetti di Shakespeare mi sembra che nessuno abbia tirato fuori una certa cosa mettiamo la forza colloquiale e teatrale del sonetto di Shakespeare e voglio tirare fuori quella e con questo dico che sono anche perfettamente d'accordo con te sul fatto che credo che per giudicare traduzioni bisogna sempre cioè si giudichi un progetto e quindi uno cerca di capire qual è il progetto che quel traduttore ha o quella traduttrice ha sul testo quindi benissimo non ho nessuna contro obiezione Luca prego se sì allora grazie ad Andrea ma certamente ci troviamoci siamo qui per menarci in senso buono e allegorico ecco allora tra allegorie e altro direi due eufemismi uno mio cioè ho voluto in realtà parlando di svista è un eufemismo non ho voluto menare troppo insomma per non dire errore diciamo ecco e nel senso che è una perdita di senso tradurre dame con donne ed è un'incoerenza poi tutto ci può stare io non sono non sono non ho ho fatto emergere insomma alcune perplessità alcune rese che secondo me a confronto con altre traduzioni reggono di meno il punto anche per venire alla ultima tua considerazione sul motivo è che forse diciamo una nota sulla traduzione o una premessa può forse giustificare alcune alcune scelte il caso del volumetto in Audi di Garibaldi ha una premessa invece di un altro curatore che molto sobria che in più di un caso si trova a dover giustificare lui filologicamente alcune scelte io non dico che non c'è un motivo forse l'ho detto un po' in conclusione rapidamente me ne scuso il senso c'è in un'operazione poetica in un'operazione di traduzione e ritraduzione poetica però è un gioco di compensazioni lo capisco benissimo il voler tradurre in metro o in rima e quindi scegliere un senso cioè scegliere di rendere poesia con poesia però torno al discorso di partenza su quell'autunno della tradizione una forma metrica svuotata di senso rispetto alla storia della traduzione poetica italiana quindi un'operazione di resa che possiamo non è necessario che la traduzione sia filologica è ben inteso in alcune scelte a me può piacere di più la traduzione parlando di autunno perché sono pagine che sono mai ingellite quella della vecchia stampa alternativa che forse è la prima traduzione di Bion che ho letto quella di Luciano Parinetto filosofo eterodosso marxista eterodosso irregolare studioso di streghe e di argomenti curiosi e bene secondo me quella è la traduzione forse più interessante estrosa addirittura più poetica di quella di Luciano Erba o di Fortini o di Valeri che di fatto in tantissimi punti va oltre Rion ma lo traduce più fedelmente che non delle operazioni un po' sbiadite in cui diciamo sono un po' per un pubblico ormai anche ahimè quello colto che a cui può bastare qualche decasillabo o qualche rima senza notare che invece la resa più poetica e filologica e coerente di un octosillabo francese può essere il nominario che è un verso anche che nella tradizione poetica italiana non ha cioè ha un peso diverso insomma voglio dire l'ecasillabo è il verso principe e tale non è l'octosillabo in francese allora se quelle scelte mi sembrano non dico che non c'è un motivo cioè come ma non giustificate rispetto a delle parti di prosa interpolate da traduzioni di servizio precedenti questo soltanto così come destino destino va benissimo perché o come dice in nota principato shagura in senso è chiaro che è un'allegoria la mancanza la castrazione vista come in senso morale moraleggiante la poesia di Guillaume è sempre complessa e difficile da decifrare da commentare prima ancora che da tradurre perché vuol dire più cose perché è polisemica perché ha le loro e però e però secondo me quel destino che può starci benissimo è a suo modo anch'esso davvero un euferismo è per non dire quella cosa così brutta che riguarda la vicenda di Abelardo spero di aver risposto no no sei stato un grande grazie davvero grazie a te davvero grazie Luca grazie a te ciao vedo che ci sono alcune manualità sono sicura che la prima è di Antonio Vibò e poi ci sono Cinza Delosso e Marco Vibò mi lascio prima la parola Antonio grazie a te grazie a tutti e due ma stringo i complimenti perché altrimenti non poi ci allunghiamo ci allunghiamo troppo ma insomma davvero entrambe molto molto interessanti ho soprattutto due curiosità una a testa e poi forse una riflessione un po' più un po' più ampia che mi è venuta da alcune confluenze che ho notato più che altro nelle vostre relazioni non tanto nell'approccio al problema della traduzione la prima molto banale è che a me veniva da non valutare certamente ma da in qualche modo reinterpretare le traduzioni italiane provando a canticchiarle con brassons insomma provando provando quel quel come si appunto confrontavano con tutti gli aspetti più popolari anche metrici di di Viglione e mi chiede mi sembra che a parte forse fortini insomma in alcuni soprattutto all'inizio venivano tutte meno da questo punto di vista quindi mi chiedo se ci sia un un tentativo anche quasi di innalzamento di depopolarizzare Viglione appunto come classico per Massimiliano poi insomma sono un po' out of my depth con Guarini onestamente con il pastor Fido però mi chiedo come da cosa derivi questa operazione ecco dell'edizione critica dell'edizione critica inglese della traduzione della prima traduzione la prima traduzione ok benissimo da chi sia venuto l'idea se da te oppure dalla casa editrice e poi diciamo a conclusione di queste conclusione mi viene in mente qualcosa che è da un po' di tempo che mi frulla per la testa riguardo alla traduzione e soprattutto riguardo alla ritraduzione ogni volta e lo dico a me stesso per prima non non sto mettendo le mani avanti ma è veramente qualcosa che dico a me stesso per prima ogni volta che troviamo tracce di una traduzione passata in una traduzione presente dello stesso testo siamo subito portati a parlare appunto come ha fatto appena Luca di interpolazioni oppure insomma di un di metterle quasi in gerarchia la seconda prende dalla prima la seconda in qualche modo dipendente dalla prima mi sembra che ci sia forse questo la vera la vera essenza della traduzione la vera essenza del discorso traduttivo la traduzione è una forma di scrittura alla quale pur basandosi completamente su un altro testo alla tradizione è impedito di citare è impedito di citare perché se la traduzione cita passa per passa per plagio a differenza della scrittura originale della scrittura creativa degli autori del primo autore insomma la traduzione mi sembra ossessionata dall'originalità e questo insomma mi piacerebbe sapere che ne pensate essendo occupati entrambi di una lunga serie di ritraduzioni ci va raccoglierei le altre due domande cosa ne dite così poi concludiamo così poi rispondiamo consigliatevi gli appunti e non so chi è chiamato prima la mano se Cinzia o Marco la parola Cinzia dell'otto grazie grazie Francesco no in realtà io non ho non devo fare una domanda e devo solo fare una piccola osservazione personale su un argomento che ho accennato a cui ho accennato ieri a proposito appunto delle motivazioni e dell'opportunità delle ritraduzioni io non sono affatto in grado di entrare nel merito degli interventi precedenti non ne ho la competenza però ecco non so se nelle altre se altri abbiano da altre letterature siano presenti questi casi che esistono nell'ambito della letteratura russa di testi che come dicevo ieri come ho accennato ieri sembrano quasi costituire una sfida una sfida per i traduttori e ne ho citati ne ho citato uno ed è il Capotto il famoso Capotto o Mantella per dirsi voglia di Gogol e l'altro nel novecento è il poemetto I dodici di Alexander Bloch e sono testi che una quarantina e non so vi cito solo Clemente Rebora ad esempio Tommaso Landolfi fra i noni nel caso dei dodici saremo sulla quindicina credo ma è comunque tanto per un poemetto poesia e molto complesso e non credo che siano motivazioni editoriali mi sembra mi sembra penso che nascano nella maggior parte dei casi proprio da una una sorta di non di scarsa valutazione delle traduzioni esistenti ma di sensazione che le traduzioni non siano riuscite a esprimere tutto o forse lo dico in un altro modo la sensazione di avere qualcosa d'altro da esprimere di poter completare in qualche modo sono casi sono casi particolari che però secondo me è una delle motivazioni credo e penso che anche nell'altra letteratura esista questa questo raccogliere da parte dello studioso o dello studioso scrittore o dello scrittore questa sfida questo cimento quasi di provare adesso non voglio usare i termini che sono stasi spesso usati per queste opere ad esempio che ho citato come come il capotto mistero non voglio spingermi tanto ma insomma quel qualcosa quel quid che fa ad esempio di questa opera di Gogol che è un racconto un breve racconto tra l'altro stilisticamente dal punto di vista dell'intreccio di una semplicità sconcertante e una improsa eppure c'è un qualche cosa che appunto si è parlato di mistero ora non voglio sbilanciarmi fino a questo punto ma c'è un qualche cosa che crea una sorta di impulso di sfida per il traduttore può anche funzionare in senso inverso perché c'è anche il timore di poi di cimentarsi con un'opera che ha avuto così tante traduzioni però credo che se parliamo di ritraduzione forse anche questa è una così una immagine di ritraduzione che che esiste ecco volevo solo osservare questo e poi se qualcuno ha esempi in altre letterature sarò felice di conoscerli grazie grazie posso? sì 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 io cercherò di essere breve un po' porto il ragionamento un'altra strada ma ne approfitto volevo ringraziare moltissimo le comunicazioni volevo salutare Massimiliano e chiedergli una cosa molto rapidamente perché vedo che il tempo passa e sulla questione del tuo progetto di edizione critica della traduzione pensavo alle questioni tipiche di questo del periodo che sono sostanzialmente quelle del rapporto tra il testo teatrale il testo spettacolo e il testo letterario l'edizione su cui tu lavori fa parte di un progetto un progetto editoriale quindi un progetto commerciale e allora mi chiedevo si parla in questo periodo assolutamente di temi come appunto il testo preventivo il testo consuntivo ad Amsterdam in quel periodo poco dopo si mettevano in scena delle commedie e si vendevano all'entrata si vendevano i testi delle commedie che poi il pubblico andava a vedere testi stampati testi a stampa quindi mi chiedevo questo progetto questa edizione su cui stai lavorando l'eliminazione dell'argomento ad esempio da un punto di vista proprio editoriale tipografico il rapporto stretto che ha con altri testi teatrali che vengono stampati all'epoca c'è dentro ci trovi dentro un progetto di spettacolo cioè c'è qualcosa all'interno del testo che ti fa pensare che questo abbia a che fare con un ritorno alla modalità spettacolare di questo testo rispetto appunto alle altre tradizioni che tu ci hai chiarito dove il testo diventa sostanzialmente un testo poetico ecco mi fermo qui vorrei parlarne molto di più ma il tempo è tiranno e si sa nei convegni è tutto così grazie grazie a tutti grazie Francesca chi se vuoi andare tu Massimiliano prego ok cerco di andare velocissimo allora di chi è la colpa della mia edizione critica per semplificare posso incolpare Alessandra Petrina che non credo ci sia che mi ha detto la collega Petrina che mi ha detto perché non fai questa cosa quelli del modern humanities research association cercano nuovi test eccetera fai il pastolfido magari e me stesso perché ho pensato ma non sono in fondo non sono un vero filologo mi fa bene imparare un'autodisciplina che non ho e adesso naturalmente sto maledicendo me stesso e tutti tutta la catena di DNA che ha portato me stesso a fare queste scelte autodesioniste ritraduzioni originali se cerco di non ricordo più benissimo perché ho sintetizzato male quello che diceva Antonio cos'è che chiedevi Antonio prova di sì no ma proprio la mia domanda che era un pensiero che è un po' ancora risintetizza velocemente le ritraduzioni appena troviamo traccia di una traduzione passata tendiamo a accusarle di plato a pensare che la traduzione possa citare sì allora dunque sì io in realtà dal mio punto cioè il mio punto di vista è completamente agnostico sulla cosa io non ho problemi per esempio per me le traduzioni dei sonetti del povero Alessandro Settieri erano un'ottima base di partenza per fare le mie traduzioni risonetti e non ci trovo niente di male cioè per l'appunto se Pierre aveva già fatto il lavoro molto del lavoro filologico eccetera io a quel punto potevo partire da lì lo considero una cosa assolutamente fattibile e non problematica è problematica per la nostra epoca c'è tutta una letteratura secondaria sulla sulla traduzione indiretta siccome viviamo ancora in un'epoca in cui l'originalità è considerata fondamentale e nel caso della traduzione è considerata ancora fondamentale che ci sia una specie di filo diretto con il testo di partenza con un originale che se non a livello accademico a livello popolare di lettura viene ancora ha emetizzato l'idea della traduzione banale come finestra sull'originale allora se tu semplifico di nuovo molto velocemente per non farvi perdere tempo ma l'idea secondo me la norma che va contro le traduzioni indirette in particolare quelle intralinguistiche ma non solo è dovuta al fatto che l'idea ricevuta è che se c'è un altro vetro un altro pezzo di vetro fra la finestra e l'originale c'è un fenomeno di rifrazione quindi non vediamo più l'originale come lo dovremmo vedere avrò sbagliato sicuramente la metafora fisica ma credo che la sostanza sia comprensibile la questione dei testi sfida sì assolutamente esistono e tanto più esistevano nel periodo in cui mi occupo in genere come mi sto occupando adesso e alcuni li ho nominati cioè Virgilio era il testo sfida per eccellenza era il modo per dimostrare che veramente ci sai fare con le lingue classiche con il latino e con la scrittura e immagino esistano anche adesso appunto di questo so meno io ho dato per scontato che le motivazioni per le ritraduzioni di oggi fossero più commerciali ma in effetti capisco anche da quello che diceva Andrea che la mia semplificazione di quello che dicevate ieri era sbagliata infine la questione della della traduzione come spettacolo di questa traduzione del 1600 come spettacolo non credo che sia mai stata rappresentata dubito che potessero avere un'idea di rappresentarla perché comunque cioè Marco considera solo che il testo per come ci sono arrivati il testo shakespeariano più lungo arriva tipo a 30.000 parole Guarini erano 40.000 Dimock questa versione del 1602 accorcia ma non poi così tanto e poi il linguaggio non tanto il linguaggio ma anche in questa versione fatta per più di Blankverse io credo che non fosse rappresentabile che loro lo sapessero però non lo posso dimostrare questa è una mia idea quello che è certo quello che so per certo è che loro guardano come vengono stampati i testi drammatici contemporanei e cercano di fare una cosa simile quindi potevano credo sperare di o che qualche compagnia prendesse questo testo e lo portasse sulla scena meno probabile o più facilmente sperare di venderlo perché c'era una piccola moda editoriale di questo tipo l'altra questione è che come sappiamo come tu sai molto meglio di me sei molto più esperto di me nel teatro le cose passavano non è che Guarini non veniva tradotto ovviamente sulla scena ma veniva tradotto in molti altri modi molto più direttamente e indirettamente allo stesso tempo cioè prendiamo questa cosa che ci serve prendiamo questi versi che ci servono magari sono versi che abbiamo trovato in un'altra traduzione li spostiamo un po', li cambiamo questa situazione cambiamo i nomi e quindi c'è da considerare da una parte la traduzione testuale la tradizione delle traduzioni testuali e dall'altra legata ma anche distante in un certo senso o diversa la tradizione di quelli che la club chiama theater grounds cioè elementi che passano in questo caso dal teatro italiano al teatro inglese da certi testi da certe tradizioni del teatro italiano al teatro inglese ok scusate ho cercato di condensare tutto probabilmente rendendo ogni singola risposta in comune grazie similiano Luca sì allora rapidamente grazie per le sollecitazioni e gli spunti senz'altro Rion è una sfida proprio per le ragioni di stata ed è per i commentatori prima ancora che per i traduttori una sfida continua una conversazione infinita davvero e senz'altro c'è una volontà di far meglio di completare di competere proprio in una competizione quindi davvero per tornare anche alle menate di Andrea insomma c'è un senso ecco anche forse a completare perché alcune delle traduzioni come accennavo sono parziali quindi forse di conserva con scelte editoriali la volontà diciamo di avere sì un Vion per completare il catalogo e in concorrenza editoriale con altri editori negli ultimi tempi avere magari un Vion completo rispetto a una tradizione precedente che è quella come sappiamo del fiore insomma della scelta di poesie ecco e questo forse giustificherebbe anche o nel curriculum per tornare a quello che diceva Massimiliano in ambito anglosassone o altro di avere per un francesista insomma Vion o spesso di arrivare a Vion magari attraverso traduzioni di Baudelaire per via di quella filiera insomma di quella affinità elettiva che nella critica è consolidata riconosciuta insomma unanimemente e senz'altro senz'altro e dico a Massimiliano non è affatto sbagliato parlare di rifrazione e sarei d'accordo per arrivare alla questione posta da Antonio che ringrazio e saluto per il discorso del plagio o del dell'intermediario beninteso anche se io parlo soprattutto da filologo che però non vuole diventare cioè il traduttore semmai da filologo e non certo di Vion ritengo che sia più che legittimo e senz'altro è doveroso anzi nel ritradurre avere sott'occhio aver quantomeno consultato una parte perché sono talmente tante che è difficile e in alcuni casi anche reperibile e ci può essere un testo guida senz'altro la mia perplessità e la mia critica la mia obiezione di fondo non è tanto nel senso del copyright che tra l'altro nella storia della fortuna di Vion è legato anche a episodi celebri come del plagio di cui era stato accusato Brecht nell'opera di avere soldi dove arriva ripreso delle traduzioni tedesche di Vion ma da un punto di vista espressamente stilistico e semantico e qui vengo e ringrazio Antonio di aver esplicitato quello che forse ho lasciato un po' tra le righe nelle ultime considerazioni che ho svolto nel mio intervento cioè che quella scelta dell'endecasillabo o di quel tipo di rima innalza da un polo per un versante la resa italiana e quindi la allontana senz'altro da quella del Vion della fama principale insomma della fama più popolare che per molti è Bassin o ancora più Fabrizio De Andrè in Italia voglio dire cioè anche chi non ha mai letto Vion lo conosce e lo conosce attraverso magari il filtro di De Andrè che per esempio è stato poi intervenuto anche come prefattore dell'edizione Feltrinelli di Denard con la traduzione di Denard per dire insomma senz'altro ci sono tanti mediatori e vanno bene sono fondamentali il punto e la perplessità nel discorso dell'ossessione dell'originalità non è tanto riprendere parole altrui che in tanti casi quando si traduce possono essere anche scelte poligenetiche scelte imposte alcuni versi di Vion Quixantua adesso non ricordo Quixantua quello della voce della Silena Quixantua voa de seren è tradotto chi cantava con voce di Serena un po' da tutti e non può che essere così e va benissimo anche se forse è meglio la reso di Carminati dell'incantatrice che rende ancora meglio l'idea che la voce di Serena è quella della Maria dell'incantatrice e il problema di fondo ripeto è stilistico ed è allora interpolare espressioni o sintagmi diciamo prosastici in una resa che si vuole poetica con tanto di endecasillabo o di rima o di scelte come quella che commentavo prima meglio sulla base degli spunti di Andrea del destino che vanno bene ma credo che decontestualizzate da note di commenti e pongano anche il lettore con il testo a fronte come dire un po' privo di quei necessari ausili che un autore difficile come come Vion presenta quindi senza altro e grazie il discorso della perdita di quell'elemento volare che magari con alcune cadenze decasillabiche in quel passo di Luciano erba che avevo citato che avevo citato alla fine un po' tragiche rendono più martellante quel senso di morte di destino quella della prigione grazie 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 a entrambi che ha partecipato al dibattito passerei ora alla sessione successiva abbiamo accumulato un po' di ritardo però forse una cosa un po' più breve e quindi ora passiamo al turno di Pietro Taravacci che ringrazio molto di aver accettato il mio invito Pietro Taravacci si è formato come italianista a Pisa in seguito presso la University of Virginia professore ordinario di letteratura spagnola adesso qui a Trento si è dedicato al romanzo sentimentale medievale al romanzo picaresco al teatro burlesco del siglo di oro alla poesia barocca alla lirica contemporanea alla letteratura mistica spagnola è particolarmente interessato alla relazione tra la letteratura e le altre arti e la teoria e la pratica della traduzione del testo letterale ha tradotto testi narrativi e di erico narrativi medievali ed è traduttore di opere poetiche contemporane è curatore del volume Poeti traducono poeti dal 2015 tra un uomo di altri è membro del comitato scientifico di testo a fronte e della giuria del premio di traduzione poetica Benno Gaiglia presso la fondazione di Cittemezia vi lascio la parola ora per un intervento dal titolo tradurre e ritradurre la fabola del Polifemo in Galatea di Luis de Gomora prego Pietro grazie Francesca grazie a tutti quelli che mi hanno invitato e mi hanno permesso mi permettono di continuare questa conversazione infinita e forse anche un po' ossessiva con il testo che compare nel titolo volevo iniziare con una riflessione che però relativizzo nel momento stesso in cui la propongo la mia riflessione era questa cioè che la proposta di una ritraduzione di un testo già tradotto soprattutto se in tempi anche recenti è un'operazione direi traduttologica ma in definitiva culturale che forse solo alcune opere possono sopportare oggi non ne sono più così convinto ma comunque questa è materia di discussione senz'altro nel dibattito nel caso che propongo ora al netto proprio delle motivazioni occasionali che risalgono a un lontano 1986 in cui mi venne la prima volta l'idea di tradurre il Polifemo quando ho iniziato la mia traduzione in versi della favola di Polifemo e Galatea che è una dei testi maggiori di Luis de Gongora esistevano in Italia già quattro traduzioni italiane italiane dell'intero poema e alcune traduzioni parziali come quella di Cesare Greppi quelle diciamo integrali erano quella di Ferrarin del 36 la favola di Polifemo favola di Polifemo e Galatea di Fiorentino del 70 la favola di Polifemo e Galatea di Enrica Cancelliere l'unica traduzione che diciamo rispetta la rima mentre le altre traduzioni sono in De Casilla Bisciolti e poi la traduzione di Rosario Trovato del 93 ripeto quella di Greppi del 71 è non completa ma è inserita ho tradotto alcune ottave nella sua edizione delle poesie pubblicate di Ongora pubblicate a Torino in Fogola nel 71 ecco venendo alla mia traduzione direi che dopo un lunghissimo periodo di gestazione che mi ha gradualmente portato alla traduzione delle prime 16 delle 63 strofe e poi alla pubblicazione alla prima pubblicazione della traduzione integrale devo arrivare al 2009 quindi la gestazione è stata davvero lunga questa traduzione è stata pubblicata nel numero 40 della nota rivista Testo a Fronte a distanza poi di soli sei anni ho ripubblicato la traduzione del Polifemo o meglio ho approntato una seconda traduzione che appare nel volume intitolato Il Polifemo La Tisbe dove appunto rispettivamente io ritraduco Il Polifemo e Giulia Poggi traduce per la prima volta il romance burlesco dedicato a Tisbe a Pirame Tisbe ecco in quella seconda mia traduzione diciamo ho aggiunto rispetto alla prima una introduzione più cospicua e una trentina di pagine di note testuali sia al testo di Gongora che alla mia traduzione allora in occasione proprio di questo nostro incontro parlare della ritraduzione della favola Gongorina significa per me non solo e non soltanto giustificare la mia attenzione a uno stesso testo in uno spazio di pochi anni ma significa direi testimoniare una lunga conversazione per riprendere il felice titolo di queste giornate conversazione con un testo che in suo autore ha concepito intenzionalmente dotato di una rigorosa oscurità o permettetemi lo simoro intenzionale un'oscura perspicuitas e quindi direi che la conversazione già con queste premesse può essere in qualche modo giustificata parlare di una seconda mia seconda traduzione di un testo che da quella del 36 contava già cinque traduzioni compresa la mia del 2009 significa anche in questo momento ammettere lo dico con un certo pudore e quasi un po' di vergogna che ho in corso quasi terminato una mia terza traduzione che non ho ancora presentato o destinato nessuna casa editrice forse proprio per il pudore di cui ho detto prima e una terza traduzione che non affronterò qui però insomma in prospettiva mi pare che sia importante considerarla proprio per mettere in evidenza questa sorta di ossessione qualcuno infatti mi potrà dire che il compito del traduttore questa volta si è formato in una vera ossessione ma alla base sia dell'uno del compito che dell'altra dell'ossessione c'è una mai conclusa tensione ermeneutica che trova proprio nella traduzione il suo strumento ideale e di questo io sono convinto ma più che altro per per averlo sperimentato potrei anche aggiungere che in questo continuo avvicinamento al testo gongorino vedo confermata quella provvisorietà di ogni traduzione provvisorietà cui si è all'uso ieri e che ci ricorda anche Susan Sontag quando dice appunto che per bella che sia la performance traduttiva è sempre provvisoria questo lo ha detto nel 2003 poi l'ha ripetuto nel 2007 eccetera aggiungerò anche che negli ultimi anni ho capito con crescente evidenza che questa stessa tensione si avvicinava sempre più alle basi epistemologiche della ritmologia questo è un dato mio personale cioè gli studi avanzano e quindi in qualche modo anche le nostre ritraduzioni si inseriscono nelle nostre nel progresso delle nostre riflessioni di fatto la ricerca di quel ritmos che quella forma dinamica che sostanzia ogni opera letteraria dandole una specifica e unica signifiance come vuole Mechonique e tutti i ritmologi mi ha occupato per una terza volta nell'intento di continuare attraverso la traduzione non solo un'operazione ermeneutica e filologica ma anche una vera e propria conversazione con il testo gongorino conversazione che peraltro lo stesso autore barocco qui mi sembra che sia importante sottolinearlo ha intrapreso sia con tutta la tradizione poetica classica rinascimentale sia con il testo stesso con la sua scrittura quindi continuare a tradurre quest'opera ma anche le soledades dello stesso autore che ho appena iniziato a tradurre per me per la prima volta significa per me entrare nel discorso direi metapoetico di gongora stesso fare poesia è per gongora e lo dico con tutti i rischi di un'affermazione così brutalmente laconica il primo e vero obiettivo sul quale spendere il proprio genio e quella agudezza che Baltasar Grafian gli riconoscerà di lì a poco insomma dalla data della pubblicazione dico del polifemo che come sapete risale in mille pubblicazioni circolazioni manoscritta tra il 1612 e 1613 ora qui non c'è il tempo di argomentare questo aspetto specifico ovvero questa attenzione più che all'oggetto di cui si parla all'oggetto che si costruisce davanti agli occhi del poeta ma direi che questa ostinata conversazione di gongora che gongora conduce con la sua scrittura con i suoi versi è del tutto evidente per parlare del testo che qui ci occupa proprio nell'incipit della fabula nel primo appunto nella prima delle 63 ottavas reales e appunto noi troviamo poi dopo vedremo quando condividerò alcune alcuni brani alcune ottave di gongora e le mie traduzioni e vedremo appunto che la prima la prima strofa inizia proprio così estas che me dictò rima sonoras culta sia un che bucoli catalia poi c'è un'invocazione al destinatario il conte dei mievlo o eccelso conte e poi varie diciamo alcuni versi di sospensione e soltanto al verso sesto c'è escucia quindi queste rime sonore ascolta tu eccetera se è pur vero che in questa prima ottava troviamo molti dei tradizionali elementi connotativi dell'esordio non sfuggirà secondo me non deve sfuggire la specifica attenzione del poeta alla natura dello strumento con cui comunica con il suo dedicatario cioè il conte de Niebla mediante il quale il lettore in particolare il traduttore si sente interpellato e coinvolto nell'indagine del linguaggio poetico che l'autore intraprende tra l'altro appunto dicevo prima che la tecnica sospensiva degli iperbati che portano appunto a concludere la prima frase soltanto nel sesto verso prima ancora che le metafore svelano questa urgenza di presentare una propria poetica da parte di Gongora e rilevano un meccanismo inventivo prima ancora che compositivo in cui le parole le rima sonoras occupano un posto di assoluta priorità prima ancora del tema e più del tema evocato che è un tema come sapete uvidiano che qui si ricostruisce in modo non del tutto nuovo dal punto di vista della trama ma del tutto nuovo dal punto di vista della forma di rappresentazione questo non è che uno di questo dell'esordio non è che uno dei tanti esempi che rivelano come in Gongora emerga una sorta di affettività rivolta alla scrittura assai prima e assai più che al soggetto trattato direi che Gongora non è un autore contrariamente per esempio a Lope intanto odiato da Gongora che si è inclina a coinvolgere il proprio io nella scrittura e quindi l'oggetto della sua attenzione anche della sua affettività è rivolta a tutto l'oggetto è il testo stesso e la forma in cui si scrive questa stretta conversazione del creatore con la sua creazione non lo nego è forse il più forte motivo per il quale il mio esercizio traduttivo su questo testo resta sempre attivo sempre desto detto in altre parole chi traduce Gongora sentia di avvicinarsi a una interrogazione del linguaggio molto vicina a quella a cui il poeta stesso sottopone la sua poesia allora se vogliamo iniziare a confrontare come impare ovvio una prima traduzione con la seconda traduzione cosa che vedremo poi attraverso alcuni esempi testuali direi che se nel primo commento alla mia prima traduzione avevo già avvertito la natura metalinguistica e metaletteraria della traduzione nelle osservazioni critiche alla mia seconda prova ho sentito con maggiore acutezza che i dolori avvertiti dal traduttore per la propria gestazione tanto per ricordare Benjamin hanno origine nel titanico sforzo del poeta nel caso specifico del polifemo di dare rilievo iconico alla parola poetica per darle un suo ritmos una sua unica forma una forma dinamica una forma che sfugge a una staticità che la possa trasformare in schema giusto per riprendere la terminologia ritmologica che benveniste mesionic mutuano naturalmente dalla terminologia atomista di Leucipo e di Democrito bene quindi c'è stata una sorta di messa a fuoco da parte mia nella seconda traduzione delle dinamiche del testo poetico e la traduzione è diventata l'impegno a cogliere quella forma di ardua bellezza che gongora ha prioritariamente perseguito e dall'altro direi che ho fatto emergere più consapevolmente la diciamo la quanto sia difficile poi arrivare alla vera significanza la vera significanza perseguita dall'autore nel movimento della parola ecco quindi l'entusiasmo della prima traduzione ha lasciato il posto ad una maggiore consapevolezza diciamo della distanza rispetto al testo originale una distanza e prossimità direi però due misure innegabili e peculiarissime nel rapporto fra testi scritti in lingue geneticamente vicine come lo spagnolo e l'italiano ponevano e pongono il testo del polifemo e la sua traduzione in una prospettiva di interdipendenza una prospettiva di interdipendenza che è diventata una specie di tormento per il traduttore una prospettiva attrattiva e separativa insieme in cui l'alterità è importante quanto l'affinità ma soprattutto senza mai venir meno all'intento comunicativo nel suo approdo la lingua della mia traduzione della mia seconda traduzione cominciava a lasciarsi permeare di tutta l'alterità del testo spagnolo molto più di quanto avessi fatto nella prima traduzione dove devo dire onestamente nonostante già avessi iniziato nelle mie lezioni ai miei studenti a come dire scongiurare consigliare di scongiurare appunto il il vizio o la tentazione di spiegare di interpretare traducendo ecco nella mia prima traduzione devo dire che io stesso ero caduto un po' in questa tentazione di spiegare di interpretare non fosse altro non fosse altro perché il testo di gongora mi sfidava appunto per usare il termine che è stato usato poco fa mediante la sua complessità e mediante una obscuritas un'oscurità tra l'altro teorizzata in una famosa lettera ma poi insomma in generale da gongora come uno degli elementi necessari alla poesia che non volesse essere pura imitazione o ripetizione come era secondo lui forse quella rinascimentale quindi con il tempo sono andato apprendendo che allo svelamento della poetica compositiva di gongora può venire in soccorso soltanto una un poétique du traduire quindi ho tesaurizzato progressivamente diciamo la lezione di Mescionicora naturalmente non posso dar conto di questo però ecco il marco la cornice teorica è questa nell'allestire quindi la seconda traduzione si è rivelato di particolare utilità entrare molto più profondamente nei commenti secenteschi e novecenteschi del testo non che prima non li conoscessi però li ho direi compulsati e letti più di una volta ciascuno proprio per rintracciare soprattutto intanto tutto il gioco intertestuale e l'ipotetico avantesto dell'opera di gongora nel tentativo appunto di decifrare il laboratorio compositivo del grande poeta barocco quindi la nuova traduzione del polifemo ha mirato innanzitutto a individuare e a conservare le componenti della sua lingua poetica in una prospettiva traduttiva il che è diverso rispetto alla prospettiva del semplice lettore o del critico e quindi tutti quegli elementi che la critica secentesca le glosse secentesche e anche che la critica novecentesca aveva messo in evidenza le ho in qualche modo rielaborate in una prospettiva proprio traduttiva sapendo che avrei dovuto poi render conto di tutto questo materiale ipertestuale di questo avantesto in forma diciamo definitiva definitiva perché appunto quando si traduce si ha una parola si ha un verso non due versi per tradurre il verso o la parola dell'originale e quindi proprio attraverso la traduzione ho capito per esempio il valore di quella continua proliferazione metaforica e quella diciamo fonosimbolismo che caratterizza questo testo la ritraduzione quindi ha puntato con maggiore attenzione a quegli elementi che a partire dal dato tematico la storia di Polifemio Galatea anche se poi in realtà Meshonik ci insegna a non mettere mai in relazione il tema di un'opera letteraria con la sua forma il suo ritmos la sua forma intima però direi che nella ritraduzione mi pare sia emerso che il dato tematico di una bellezza poetica che vive ugualmente nella proporzione e parla appunto dell'amore fra Acie e Galatea e nella difformità la difformità appunto in tutti i sensi che regola il rapporto fra Polifemo e Galatea raffigurano una storia impossibile proprio attraverso una sintesi stilistica formale paradossale iperbolica che è la vera cifra della novità del barocco di gongora una una cifra sempre volta all'elemento stilistico retorico principe che io direi è una enargeia che tende a mettere a nudo i procedimenti estetici concepiti ed elaborati ecco a rendere tutto icona attraverso il suono attraverso l'immagine detto in altre parole nella seconda traduzione sono stato molto più attento ai tratti dinamici e alla componente ritmica del testo in una progressiva indagine mi si permetta questo incrocio di come dire citazioni e lemmi un'indagine del suono con cui il testo costruisce il senso e una progressiva decifrazione come traduttore del senso di quel suono ecco e quindi sono andato a come dire a riperformare appunto l'ornatus e il ritmos ripeto del testo con questa nuova logica con questa nuova ansia appunto ritmica e ritmologica per vedere appunto come si poteva ci si poteva avvicinare sempre di più a quella evidenzia con cui il poeta barocco ricostruisce e ridice il mito ovidiano allora a questo punto non so quanti minuti abbia ancora ma volevo solo condividere con voi alcuni versi ecco non vi spaventate se vedete una quantità di testo maggiore rispetto a quella che in realtà quello che vorrei mettere in evidenza e non sarà neanche tutto è quello in colore diverso allora per recuperare un po' questa direi evoluzione tra la prima e la seconda traduzione così paradossalmente anche vicino nel tempo ma così in parte sostanzialmente diverse e diverse senza senz'altro dalla terza traduzione con cui vi ho minacciato ecco direi che posso appunto rifar vedere per esempio la prima strofa in cui proprio per il tentativo di non non accondiscendere troppo alla rima anzi per nulla alla rima ho cercato addirittura di evitare nella prima traduzione vedete nell'ultima ottava nel verso 8 quella fatigare la selva nella prima traduzione era diventato affaticare il bosco il che mi permetteva seguendo un po' le linee che insegno anche i miei studenti a evitare di troncare i verbi perché naturalmente danno un sapore arcaico che forse non è il caso di sovrapporre ad una scrittura già così complessa e così volutamente arcaizzante nell'intenzione latinizzante a volte arcaizzante da parte di Gongora nell'intenzione di innovare naturalmente il linguaggio poetico attraverso l'arcaizzazione attraverso il cultismo per cui quel fatigare la selva nella prima traduzione era diventato affaticare il bosco ma poi dopo si è trasformato si è avvicinato in qualche modo al testo originale è diventato affaticare la selva pur accettando quella specie di diciamo arcaizzazione che poi non è neanche tanto evidente perché diciamo nella fonetica sintattica qualche volta noi anche parlando quindi nel linguaggio colloquiale lasciamo cadere l'ultima vocale degli infiniti ma questo esempio mi serve per in qualche modo introdurre quella che sarà la mia terza traduzione che pur non accogliendo la rima cercherà di imporla o meglio ha già cercato di imporla di recuperarla nell'epifonema diciamo delle ottave reali queste sono ottave reali appunto dove c'è una rima alterna nei primi sei versi e poi c'è una rima baciata negli ultimi due ora in realtà questo elemento rimico ha un forte valore semantico per il lettore del seicento un forte valore semantico che difficilmente oggi in modo spontaneo lo si può recuperare ma che mi pareva importante visto che stiamo parlando di di gongora e visto che come sanno tutti gli spanisti quando si fa rimare appunto in fondo a un'ottava due quando si presenta una rima lì si concentra una particolare significato cioè c'è una condensazione semantica importante quindi questo tentativo di far rimare gli ultimi due versi dell'ottava reale io l'ho fatto diciamo cioè l'ho fatto nella sistematicamente nella mia terza traduzione e qui invece compariva in un modo quasi un po' inconsapevole allora gli esempi che poi qui posso dare sono esempi di come appunto nella prima traduzione andavo verso una sonorità a volte un po' più accessibile rispetto a quella presentata da da gongora a volte quindi con delle normalizzazioni di arditi diciamo discorsi dove l'iperbato era davvero quasi impossibile da ricostruire però poi man mano che andavo avanti nella seconda traduzione ecco questa necessità di spiegare di normalizzare di una scioltezza o scorrevolezza che correggesse un po' quella oscurità insita nel testo originale è venuta sempre meno cioè questa tentazione di normalizzazione è venuta meno e ne sono contento e quindi qui abbiamo per esempio di questo formidabile sbadiglio della terra lo sconsolato vuoto che mi traduceva ad este pues formidable della tierra bo stesso il melancolico vacio è diventato di questo spaventoso della terra sbadiglio il malinconico vuoto a polifemo eccetera eccetera quindi non è neppure il caso di approfondire o di perderci molto in queste diciamo correzioni nella direzione che ho già spiegato ecco manca un po' solo per dirti che manca se riesci a avviarti la conclusione benissimo ti ringrazio allora c'è solo un esempio che vorrei fare di traduzione diciamo in qualche modo filologica che ho perseguito fin dalla prima dalla prima traduzione e della quale traduzione non mi sono come vedete pentito nella seconda e sono queste nelle ore belle che come dire traducono un testo assolutamente diverso in las purpureas oras allora io sono partito già nella mia prima traduzione da una considerazione non tanto filologica in realtà il caso di traduzione filologica era un altro questa è una traduzione interpretativa appunto di quel percorso intertestuale diciamo a cui ho accennato prima in las purpureas oras o excelso conte in la purpurea che es rosa l'alba e riosi clare il dia in realtà questa è una notazione che mette in evidenza il momento in cui Gongora in qualche modo dedica spedisce idealmente le sue rime sonore al suo destinatario cioè al conde de Niebla allora purpureas oras mi sembrava tradotto alla lettera come di fatto hanno fatto tutti e forse come farò in futuro non lo so questo lo devo ancora decidere tutti gli altri traduttori l'ho trasformato in qualcosa di molto diverso perché in uno dei commenti forse uno dei più autorevoli commenti del secenteschi ecco quello di Pegisher Pegisher a proposito di quel termine purpurea di quell'aggettivo purpurea che a me sembrava un po' direi se il vero significato fosse quello unicamente cromatico mi sarebbe sembrata quasi una ingenuità una mancanza di quello stile complicato scuro che Gongora voleva perché poi in realtà nei versi successivi tutto quello che si riferisce al colore di quelle ore viene esplicitato e anche in modo molto raffinato che è rosas l'alba nell'ora in cui l'alba è rose non rosa come colore ma rose e rossicler è il dia è argento rosso il giorno allora mi sembrava che purpurea nella sua accezione puramente cromatica fosse una sorta di ingenuità che non permettevo a Gongora però insomma come dire l'avrei accettato ugualmente se non che Pegifer mi ha dato l'occasione in uno dei suoi commenti colonna dodicesima di leggere questo puede sentender purpureas ora cioè si può intendere purpureore e ora traduco nello stesso senso in cui Orazio dice e qui naturalmente Pegifer lo dice in spagnolo fisnes purpureos cigni di porpora purpurei oppure nieve purpurea en albinovano o lus purpurea en virchilio che todo tutto quanto tutti questi esempi intendono ermosso cioè bello comoglio pruebo emifenix diatribe tres eccetera quindi questo è un modo per secondo Pegifer secondo questo appunto commentatore molto vicino a Gongora per dire di una bellezza che è difficile appunto rappresentare con parole proprie quindi trova una sorta di termine simbolico per esprimere l'inesprimibile e allora io ho pensato che a partire da quella notazione di Pegifer queste purpureas oras nella loro bellezza inesprimibile potessero diventare nelle ore belle ora non so se rifarei o se quando direi darò alle stampe la mia terza traduzione manterrò questa soluzione però ho cercato con quella soluzione appunto di ripercorrere diciamo supporre quel suggerimento che un autore cultista come Gongora aveva pensato allestito per il suo lettore colto perché è quello il lettore a cui si dirige chiaro nelle ore belle mi scioglie questa diciamo questa strizzata d'occhio al lettore colto e forse per questo rinuncerò a questa soluzione però questo testimonia esattamente non solo difficoltà di un traduttore ma anche come dire le aporie le impossibilità di arrivare ad una traduzione perfetta perché appunto il nostro avvicinarci alla traduzione è sempre una progressione e mai un punto d'arrivo basta vi ringrazio perché ho già rubato troppo tempo grazie alla presentazione di un intervento soggettivo Claudia De Mattei è professore associato di lingua e traduzione spagnola verso l'università del Trento che è da noi si occupa di letteratura spagnola cavalleresca del Cinquecento e di teatro dei secoli d'oro grigio un progetto internazionale dedicato alla pubblicazione delle opere complete del drammaturgo spagnolo Juan Perez de Montalban come traduttrice ha partecipato alla traduzione della seconda parte del Quixote nel 2015 ha tradotto due volumi di poesie del poeta contemporaneo José Manuel Lují de Gias si è occupata come studiosa di traduzione con particolare attenzione della ricezione in Italia del Quixote in vari articoli e saggi dedicate all'analisi e alla fortuna della prima traduzione secentesca del Quixote oggi ci presenta un intervento dal titolo ritradurre il primo romanzo della modernità Don Quixote nella traduzione di Bartolomeo Gamba Venezia 1818-1819 grazie a Ciovia de Matteo per aver accettato grazie Francesca per questo invito che mi permette di ritornare a testi non solo amati ma anche commentati e su cui ho riflettuto a lungo condivido la presentazione in modo da eccoci qui e parto rapidamente da una contestualizzazione perché mi servirà per effettivamente contestualizzare così un veloce panorama che ci porta all'Ottocento vedrete perché veloce perché effettivamente la situazione italiana è molto è molto peculiare ricordo quindi la pubblicazione delle due parti del Quixote tra il 1605 e il 1615 come è chiaro siamo nelle diciamo nelle opere che chiudono la carriera di scrittore di quest'autore e soprattutto si situano in un momento molto molto interessante per quello che è la la diffusione a stampa e la circolazione a stampa dei testi non solo in contesto spagnolo ma in contesto europeo che mi interessa proprio commentare durante il mio intervento spendo solo due parole per ricordare il successo immediato che ha il Quixote e che noi possiamo dedurre dal numero di edizioni in vita di Cervantes che potete vedere in questa tabella riassunte e che ci fa appunto capire come nel momento in cui viene pubblicata la seconda parte nel 1615 Cervantes avesse già questa questa diciamo questa informazione fosse già a conoscenza di questo successo tant'è che nella nel Quixote proprio nella seconda parte siamo nel capitolo 3 ce ne parla ce ne parla uno dei suoi personaggi di Sanson Carrasco che effettivamente ci dà un dato molto scusate molto realistico sono avanti molto realistico del momento Quixote si incontra non stanno parlando Don Quixote e Sanson Carrasco Don Quixote dice di questa la verità è che ha storia mia e che fu moro e sabio il che la compuso è tan verità signor dice Sanson che ho per me che il giorno di oggi sono imprese più di 12.000 libri di storia se non dite Portugal Barcelona Valenza dove si hanno imprese e ancora c'è fama che si sta imprimendo un amberes chiamissime trasluse che non ha di affernazione né lingua dove non si traduzca quindi innanzitutto osserviamo che il dato come vi stavo dicendo è realistico dice 12.000 copie stampate e siamo nel 1615 effettivamente gli storici proprio della storia dell'editoria e dei libri effettivamente hanno dimostrato che per questa data effettivamente circolava probabilmente anche più di 12.000 copie Rodriguez Marine sostiene che con le 10 edizioni pubblicate fino al 1615 in effetti eravamo già oltre i 15.000 esemplari posto che una tiratura media era appunto di 1.500 o 1.700 esemplari quindi questo è un dato sicuramente interessante ma la seconda informazione di questa citazione del capitolo 3 della seconda parte è effettivamente che non ha dei affernati ogni lingua dove non si traduzca e quando viene pubblicato la seconda parte del quichotte nel 1615 effettivamente già erano state pubblicate le traduzioni in inglese della prima parte da parte di Thomas Shelton e in francese con César Oden quindi niente di più vero di quanto sta dicendo Sanson Carrasco nel suo dialogo con con Chisciotte in Italia la situazione è un po' diversa non parlerò ora anche se vi ho messo qualche dato della ricezione di Servantes in Italia che avviene attraverso il canale del romanzo picaresco e di un traduttore editore molto interessante Barezzo Barezzi che altri hanno studiato ad esempio Donatella Pinimoro e quindi su cui non mi trattengo ma è certo che il Chisciotte arriva in Italia come diciamo a livello editoriale in lingua spagnola nel 1600 a Milano con questa prima edizione in spagnolo e circola effettivamente in Italia più in spagnolo che non in italiano in effetti dobbiamo attendere fino al 1622 per avere la prima parte tradotta da Lorenzo Franciusini è un autore lessicografo è un grammatico soprattutto e traduttore che si cimenta prima di pubblicare il Chisciotte probabilmente ci stava lavorando e nei miei stagioni che ho dedicato a quest'autore un po' ho cercato di dimostrarlo che lavorava in contemporanea al vocabolario e alla traduzione del Chisciotte ed effettivamente questo suo lavoro di lessicografo come del resto è vero anche per César Rodin il traduttore francese lo ha aiutato ma in alcuni casi anche gli ha creato qualche conflitto all'inizio proprio nella sua nella sua traduzione e l'editore Andrea Baba uno dei principali editori stampatori veneziani del momento su cui non mi posso soffermare vi volevo solo diciamo commentare riguardo al Chisciotte di Franciosini perché è un elemento che poi ritroveremo tra poco per quanto riguarda le traduzioni ottocentesche è che la peculiarità della traduzione del Franciosini era di presentare un totale un totale scusate un certo numero di note al margine molto interessanti con tipologie diverse di riflessioni di osservazioni spiegazioni lessicali note geografiche ma soprattutto riflessioni sull'essere sul suo essere traduttore e soprattutto anche sul diciamo sui momenti più problematici e sul fatto che in alcuni casi deve abbandonare proprio le armi e dichiararsi vinto e quindi tradire il testo come lui stesso dirà e queste perché vi parlo di Franciosini perché rapidamente vi volevo far vedere come funziona come funzionava un po' secondo le mie interpretazioni ovviamente il modo di tradurre di Franciosini e l'uso del del vocabolario nel suo stesso testo in alcuni casi come in questo che vi sto proponendo per andare a tradire il suo stesso lavoro del psicografo siamo nel capitolo 32 della seconda parte in casa dei duchi un episodio molto bello molto divertente molto ironico Sancio è ancora una volta protagonista la stregua di Don Quixote nello scherzo dei duchi in questo caso lo stanno rincorrendo le cameriere perché lo vogliono lo vogliono lavare e insomma ripulire e Sancio si offende quindi dice a un certo punto offeso traigan anche un pene o lo che chissieren e almoasen messas barbas e si saccaren degli as cosas che offendan la limpieza che metraschilen a cruces questa sasson si indica la rissa la duchessa eccetera eccetera e quindi la duchessa dice lasciamolo stare e come traduce Franciusini dice che portino qui un pettino ciò che vogliono almoasen e almoasare è strigliare i cavalli con questo pettine di ferro e se ci trovino cosa che offenda la pulitezza mitosino a scale con l'asterisco che rimanda la nota questa è l'edizione del 1755 che ha le note a piedi pagina nella prima edizione erano invece a margine comunque le note sono le stesse dice tosare a scale significa levare la lana alle pecore disugualmente cioè dove poca e dove assai andiamo però a vedere qui ho riportato il passaggio che cosa dice nel vocabolario franciusini dice treschilara a cruces dice tagliare i capelli in croce pene imposta anticamente da canoni a colui che aveva due mogli in effetti la treschilara cruces è una pena ignobile ma anche una forma comune di giuramento che lui in questo momento come dire sbaglia se volete non dico io sbaglia in pieno però insomma fraintende comunque tradisce per questo l'ho portato come esempio in questa continua conversazione tra testi in questo caso era una conversazione col suo stesso vocabolario che viene tradito proprio perché era perfettamente consapevole nel suo vocabolario franciusini che esisteva un termine per identificare traschilare e quindi cortare lo scaveglios con la peculiarità che era una pena soprattutto infamante per i nobili e deschilara che invece appartiene al ganado alle pecore come Juan de Valdez ci ricorda nel dialogo della lingua che è successo ha la traduzione del franciusini beh non molta se pensate che durante il seicento la traduzione di Odena al francese ha ben 15 ristampe in Italia franciusini viene ristampato solo due volte e quattro volte nel settecento non entro qui nella diciamo discussione perché non è proprio una polemica è un dato di fatto su quanto in Italia si leggesse in lingua spagnola perché non c'è tempo e però è sicuramente uno dei dati che dobbiamo ricordare e il franciusini la scusate la ristampa il franciusini giunge fino all'inizio dell'ottocento sarà nel 1832 la sua ultima ristampa e è proprio il momento in cui effettivamente cambia qualcosa nello scenario italiano tra la traduzione di franciusini e il 1800 infatti non è stato più tradotto il il chisciotte e arriviamo all'inizio di un di un secolo ben particolare non solo in Italia ma per tutto diciamo il contesto europeo e ha diciamo così negli anni che riguardano poi il ovviamente Napoleone e il consiglio di Vienna con la restaurazione e sono anni molto molto interessanti dal punto di vista storico ma evidentemente molto anche proficui per la riflessione su un testo che comunque ha una diciamo una portata che va oltre l'essere un capolavoro ma avere anche un significato dell'impegno nell'impegno diciamo così nella storia d'Italia e in particolare sulla lingua italiana perché ho inserito alcune date diciamo tra parentesi graffe perché volevo commentare proprio queste tre date cioè il 1806 7 poi il 14 e il 18 in particolare che è quello che ricordavo nel titolo cioè la traduzione di Bartolomeo Gamba e infatti vi volevo parlare rapidamente di quello che è un progetto di cui mi sto occupando proprio in questo periodo che però non parla di ritraduzione ma soprattutto di adattamento da parte di due intellettuali gli ottocenteschi dell'inizio ottocento italiani che hanno trasformato in ottave reali il Chisciotte Emanuele Nappi in modo molto cospicuo in tre volumi venticanti Nicola Limosino che ritengo quasi più interessante e adesso di lui che concentrerò soprattutto la mia prossima pubblicazione che scrive o compone sette canti ma con una diciamo fedeltà testuale molto interessante di loro brevemente così vi propongo i fontespizi ma solo per ricordare che forse il progetto di Nimosino si interrompe proprio per la sua morte e vengono poi pubblicati postumi i sette canti in una sua raccolta poetica canti che poi vengono riproposti ristampati nel 1818 scusate e poi nel 1914 in un librino molto interessante che è stato usato per la didattica e la lettura nelle scuole nelle scuole italiane all'inizio novecento sì di loro vi porto anche qualche qualche verso perché in effetti sono entrambi testi molto interessanti come vi dicevo Nappi inventicanti tre volumi riesce a percorrere un numero di episodi anche in modo dettagliato molto interessanti qui vi ho messo l'incipit di entrambi che forse riesco a leggere rapidamente non commentandoli in una terra della mancia vi era un contadino di singolar talento che di lustro per dar prova sincera armi in casa tenea da far spavento lancia scudo torace elmo visiera con tutto il militar fornimento un levero magro che spirarlo vedi e un rozin che non si regge in piedi questo è Nappi e invece Limosino ricorda proprio la caratteristica di un lugar della mancia di cui un ombre non chiedo a cordarmi cioè della mancia in un piccolo villaggio di cui il nome nell'oblio ristagna un mezzo gentiluomo vivea da saggio tra i semplici piacere della campagna eccetera adesso non vi leggo tutti questi versi in ottava reali che diciamo sono sicuramente diciamo parte di un progetto che purtroppo si è interrotto con la morte dell'autore e arriviamo dunque al al chisciotte di Bartolomeo Gamba e quindi diciamo anche al al progetto no al progetto di di Gamba innanzitutto viene pubblicato nel 1818 e come vedete ha subito un altissimo numero di ristampe durante tutto l'800 e a partire dal 1840 viene rivisto e corretto diciamo così da Francesco Ambrosoli anche se questi interventi non sono di così ampia portata da far cambiare questa traduzione comunque rimane sostanzialmente quella quella di Gamba chi è chi è l'autore l'autore per chi ci interessa perché è un tipografo cioè un tipografo scusate lavora e dirige la tipografia di Alvisopoli dove pubblica il il chisciotte lavora nel mondo editoriale ha degli incarichi anche alla biblioteca marciana quindi assolutamente è un attento conoscitore della materialità del libro in effetti nel suo nel suo prologo lui sostiene che si è cimentato nella ritraduzione del chisciotte proprio perché non perché la traduzione del franciosino non gli piacesse ma per colpa dei cattivi editori che hanno stravolto la traduzione del franciosino e ci dice così crebbero a dismisura le ristampe del suo volgarizzamento ma lo spirito di venalità giunse a tale che specialmente in alcun veneti dizioni fatte per la plebe dei lettori una qualche volta trovasi sin inserito con istravolgimento di senso nel testo dell'opera ciò che deve stare nelle note del traduttore quello che vi dicevo prima le note al margine durante diciamo il settecento vengono da prima inserite tra parentesi nel testo poi successivamente sempre per questa diciamo superficialità che riconosce anche gamba vengono lasciate nel testo togliendo le parentesi diventando parte del testo e stravolgendo ovviamente il il chisciotte il chisciotte stesso come immaginerete perché avete visto la portata non solo della della nota che vi ho letto ma di altre che sono assolutamente commenti di un traduttore che si arrende dicendo che in quel caso non so non sa proprio come tradurre quel gioco linguistico quel detto e quindi l'operazione di ritraduzione non è veramente di ritraduzione ma di ricostruzione della traduzione di franciusini diciamo nella prima edizione no e con una graffia modernizzata con abolizione di alcuni elementi desueti della lingua sicuramente viene modernizzata sono passati due secoli vi ricordo e poi vengono corrette delle arbitrarietà potremmo chiamarle così del del francius di franciusini che era intervenuto in alcuni momenti riusciamo a ricostruire anche la motivazione come ad esempio nel capitolo 13 quando sostituisce i frati oggetto dell'episodio che si scontrano insomma con Don Quixote con dei medici proprio per la diciamo peculiarità del anche del così della eventuali critiche alla alla chiesa però in alcuni altri casi come ad esempio Des del Gatai a Gaeta questo recitalo originale viene trasformato dal Gatai al Mugnone che avvicina diciamo così alla geografia locale per quanto riguarda franciusini comunque l'operazione di Gamba quindi è non proprio ritradurre il Quixote è rivedere la traduzione di franciusini attualizzarla modernizzarla correggerla in alcuni errori e impreziosirla impreziosirla in che modo inserendo e dando diciamo vita a quello che poi sarà la moda insomma successiva impreziosendo la sua edizione con 22 tavoli di incisioni di Francesco Novelli di cui vedete appunto una delle immagini in questa stessa slide nel momento in cui Don Quixote sta entrando alla sua prima diciamo uscita da solo e ancora da solo senza la sanciopanzia arriva alla locanda e questo ci permette di toccare il primo esempio diciamo concreto che riguarda la la traduzione la ritraduzione di gamba rispetto a franciusini siamo nel capitolo 2 della prima della prima parte naturalmente vi stavo dicendo Don Quixote arriva a questa locanda sulla porta trova due fanciulle diciamo così stavano a caso alla porta dos mujeres mozas destas che llaman del partido se llegó alla puerta della venta e vio a las dos distraídas mozas che allì stavano e che a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas che delante della puerta del castillo se estaban solazando poi queste due ragazze su ordine dello candiere lo disarmano e al disarmarle come él se immaginava che aquellas traídas i llevadas che le disarmavano algunas principales señoras damas del castillo les dico con mucho donaire qual è la peculiarità di questo passaggio che vi sottopongo e cioè è l'uso del lexico de germania dell'ampa cioè dell'exico dei furfanti della bassa così di bassa lega con doppi sensi che fa sì che il traduttore si trovi effettivamente a dover convivere con un primo accenno a las muzas destas che llaman del partito quando sappiamo che all'epoca las muzas del partito eran effettivamente le prostitute ma poi un gioco successivo nei successivi paragrafi tra las distraídas muzas y las traídas y llevadas dove distraído non solo implica una distracción no quindi destraído il primo senso ma indica la gente di malavita e in special modo le prostitute e quindi anche traídas che vorrebbe dire diciamo usate se applicato ad esempio ai vestiti il lexico de germania no di della così di volgare no di e indica invece le prostitute quindi si crea tutto un diciamo un gioco sul inserisco un attimo solo per dire se può viarci la conclusione mancano minuti grazie e vediamo subito scusate ho fatto e vediamo subito come gamba e gamba scusate franciusini traduce e poi gamba erano sorte sulla porta due giovanotte di quelle che chiamano di partito nella lingua italiana il vocabolario della crusca effettivamente hanno lo stesso significato che in spagnolo vede le due vagabonde giovani che stessero al fresco perché anche su la far ha un significato un doppio significato non è solo effettivamente ricrearsi ma anche qualcosa di un po oltre e pensando che quelle sgualdrine che lo disarmavano fosse il principale signore eccetera eccetera franciusini quindi mette proprio in chiaro quello di cui si sta parlando e gamba invece diciamo segue o comunque accoglie il suggerimento di franciusini quello che si chiamano da partito le giovanotte da partito invece che del partito e poi diciamo costruisce un gioco tra i costumi e i malcostumi con due malcostumate ragazze e quelle scostumate femmine insieme a un altro sottile gioco tra le due molto vaghe donzelle che vagassero a bel di porto dove il di porto nel vocabolario del tempo sicuramente all'inizio dell'ottocento per quanto ho visto e implicava anche effettivamente quello che è il sollazzo avevo portato un altro come si chiama un altro esempio che deriva invece dal linguaggio giuridico nel capitolo 15 dove si scontrano con gli Agueses che sono i mandriani delle cavalle che Ronzinante attacca con infervorato così passione e in questo caso il tema è l'uso di un linguaggio appunto non più basso ma tecnico cioè un linguaggio giuridico dove Acostas gioca con Sincostiglias ma Sincostas è effettivamente un termine giuridico per dire che non ne ha pagato le conseguenze cioè non ha pagato i costi del processo e in questo caso devo dire che anche i traduttori attuali si arenano spesso in questo punto dove Franciusini aveva scelto il mio giumento ne è uscito a macca e senza pagare niente e noi ne siamo usciti senza le costole utilizzando quindi una spiegazione senza pagare niente mentre Gamba riporta questo gioco delle costole anticipandole cioè il mio asino l'abbia scampata con le costole sane quando noi l'abbiamo finita con le costole rotte e quindi rapidamente concludo dandovi alcuni dati perché è significativo su quante traduzioni edizioni scusate da prima in Europa delle rispettive traduzioni ma soprattutto quanti traduttori cioè i pochi traduttori che in Italia si sono cimentati come vi ho detto due rispetto ai 22 francesi o inglesi d'accordo ma soprattutto mi piacerebbe concludere con quello che è invece la rivincita italiana a partire dall'inizio del novecento dove e parliamo solo di traduzioni integrali a partire dagli anni venti abbiamo diciamo l'inizio di una nuova epoca per quanto riguarda il Chisciotte e ho solo segnato le traduzioni che arrivano fino alla famosa traduzione di Vittorio Bodini quella perenaudi che ancora adesso viene ripubblicata forse una delle più belle anche se devo dirvi la verità che io continuo ad apprezzare molto quella di Mary Deoccofler che è stata la prima nel novecento a tradurre integralmente il Chisciotte e quindi mi fermo qui grazie 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 a entrambi allora siamo siamo un po' in ritardo e vi propongo di fare così adesso apriamo le domande come previsto facciamo comunque la pausa poi dopo abbiamo le domande e quindi il dialogo tra Giulio e Yasmina inizierà con un po' di ritardo diciamo verso mezzogiorno 10 12 14 per dire come ci muoveremo allora se c'è qualcuno che ha una domanda delle domande prego fatevi pure avanti in chat oppure intervenendo se volete me ne approfitto intanto che intanto che aspetto che qualcuno si faccia avanti per chiedere due cose io e entrambi in alcuni momenti mi è saltato un attimo la connessione dovuto quindi non so magari queste cose le avete già dette ve lo scusate la prima cosa per Pietro e per tornare a una cosa che ci piace molto vedo chiedere in questi giorni a me ma non solo editorialmente come è andata la faccenda nel senso chi ha di chi è stata l'idea da da dove è nata da da cosa se da cosa è stata motivata se c'è stata una ragione editoriale particolare invece per per Claudia De Mattei mi è sfuggito forse se una questione non ho capito se Bartolomeo gamba cioè come come considerasse il proprio progetto nel senso è una traduzione è un'attualizzazione è una traduzione originale per lui è un lavoro semplicemente di appunto tratta di rinfrescare qualcosa per appunto ripubblicarlo in linea con il suo lavoro a livello di una tipografia ecco io partirei di questo giro di domande e poi aspettiamo le altre grazie allora posso rispondere io a questa prima domanda ma editorialmente in realtà all'inizio non c'era nulla perché l'iniziativa di tradurre il polifemo è nata molto tempo fa in un'occasione quasi non so se posso dirlo ero costretto a letto e quindi per e quindi come dire ho riletto questo testo e mi è nata l'idea di dirlo nella mia lingua ecco insomma quindi c'è una sorta di chiamata a dire nella propria lingua un testo che si ammira in questo caso per la complessità l'intelligenza l'acutezza verbale eccetera quindi è un meccanismo che mi pare al quale alluda anche lo stesso Benjamin ecco nel compito del traduttore senza pensare devo dire ahimè l'ho fatto ingenuamente neppure a un lettore ma non per quei motivi appunto a cui fa riferimento Benjamin e appunto ogni traduzione deve in qualche modo contribuire ad una linguaggio ideale ma proprio perché ero del tutto sprovvisto di quella di quella intenzione di appunto misurarmi con un pubblico reale poi dopo naturalmente la cosa è diventata un'idea concreta dalla quale si può ogni tanto prescindere di fronte a un testo così difficile così complesso che senz'altro non può andare nelle mani di chi non ha intenzione di leggere una cosa difficile di chi non sa che si deve cimentare con quello dopodiché ecco nella edizione in volume lì naturalmente c'è stata una proposta da parte di Giulia Poggi che era ed è la direttrice della collana Bagatelle di ETS che appunto pubblica testi spagnoli in traduzione e direi che lì ecco lì c'è stata una sorta di sinergia ci siamo fatti coraggio a vicenda nel senso che lei traduceva proponeva per la prima volta la traduzione di un testo ancor più difficile perché se è difficile entrare all'interno delle tecniche di un cultismo quindi di un linguaggio alto volutamente alto ancora più difficile invece entrare nel caso della traduzione della Tisbe in un testo burlesco in cui i giochi verbali i riferimenti anche alla storia al quotidiano quindi i giochi di parole le allusioni nascoste alla politica al contesto insomma del tempo sono davvero quasi impossibili da sciogliere Giulia Poggi l'ha fatto con grande maestria ecco quindi questo è un po' il contesto ripeto per la terza traduzione questa ossessione traduttiva non riesco neanche a pensare ad una a una diciamo casa editrice in grado di accogliere questa questa provocazione però senz'altro si va profilando un po' di più concretamente l'idea di un traduttore di un lettore ecco quindi e il problema della quella che in spagnolo confermatemi se si dice così è la competenza lettora no cioè pensare a quanto il lettore possa entrare in dialogo con tutte le problematiche che il lettore affronta questo mi pare un argomento un argomento davvero molto importante che ogni tanto cerchiamo anche di affrontare con con i nostri allievi le nostre allieve insomma a cui facciamo proponiamo questi corsi di traduzione non so se ti ho risposto insomma sì 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 è interessante quanto stai chiedendo in effetti Gamba non non dice chiaramente che utilizzerà la la traduzione franciosini quello che dice nel prologo sotto il nome degli editori veneziani ma è lui che pubblica la sua stessa traduzione è che quello che farà sarà innanzitutto di ritornare all'originale perché dice franciosini probabilmente non aveva a disposizione un'edizione corretta e integra sì ma comunque adeguata e quindi dichiara proprio ho qui sotto mano il prologo di voler utilizzare l'edizione della real accademia del 1780 quindi prende un'edizione diciamo autorevole dal suo punto di vista di fine secento dell'accademia al contempo cita già Pelliser e quindi dice che si rifranca la sua edizione del chisciotte e poi che maneggerà la traduzione francese lui dice varie traduzioni francese in realtà sembra che ne utilizzò solo una quella del 98 mi sembra che sia dell'editore Florian e il suo obiettivo quindi è da una parte sicuramente leggere in modo attento il franzosini perché lo ha letto sicuramente lo ha tenuto ben presente ma snellire un po' quello che lui definisce un periodare lungo e melenso che stucchevole riesce al lettore quindi con due secoli diciamo di distanza vorrebbe fare anche un'operazione di maquediage quindi di fatto non si non dice che utilizzerà la sua traduzione ma comunque fa intendere che la conosce molto bene molto bene sì grazie io volevo sì così intervenire un po' fare una domanda un po' a tutti e due volevo riprendere un po' il discorso che faceva Francesca riguardo a Pietro cioè anzitutto io Pietro credo che secondo me Gongo apprezzerebbe moltissimo il lavoro che stai facendo anche perché è giusto ricordare che questi sono esperimenti che fa Gongo cioè addirittura le Soledades non le finisce non gli interessa gli interessa proprio fare quello che è riuscito a portarti Pietro cioè a lavorare proprio sul testo sui problemi della creazione di un nuovo linguaggio poetico eccetera e quindi secondo me lui apprezzerebbe molto questa infinita operazione traduttiva che lo hai detto è un'operazione ermeneutica sostanzialmente cioè è un lavoro di interpretazione di un testo che è talmente complesso caratterizzato dalla obscuritas che è proprio l'obiettivo che ha criptico direi su questo per quello volevo collegarmi a quello che diceva Francesca in relazione al progetto editoriale cioè ti volevo chiedere cosa ne pensi di questa tradizione che conosciamo moltissimo noi ispanisti che ha come colonne sicuramente Damaso Alonso ma poi anche Robert Jam la sua edizione delle Soledades che è questa tradizione che rimanda poi a una tradizione classica classicista che è quella delle parafrasi cioè sostanzialmente assieme all'edizione talmente complessa talmente oscura il critico lo studioso il filologo Damaso Alonso primo tra tutti propone una parafrasi e poi a sua volta propone un commento secondo poi quella che è alla fine della tradizione italiana perché gli italiani siamo maestri di questa tradizione del commento e volevo chiederti cosa ne pensavi in relazione a un progetto che invece è traduttivo mi riferisco ovviamente a un discorso di tipo editoriale perché forse potrebbe essere una strada non lo so te lo volevo chiedere perché ti confesso che a me le parafrasi di Don Damaso e quelle di Robert Jammy sono sempre state molto utili perché sono riuscito ad entrare in questo testo certo è una contraddizione in termini perché non ha nulla a che fare con un progetto che è creativo alla fine non è anche tanto alla fine che è quello che fai tu cioè riscrivi secondo proprio quello che facevano gli umanisti dell'imitatio e quindi ti volevo chiedere cosa ne pensavi di questo ruolo che può avere in qualche modo la parafrasi accanto al commento e concludendo come ti immagini un'edizione per un lettore italiano oggi per fargli conoscere questo per afficinarlo a questo testo ah invece dice a a Claudia volevo chiedere una cosa relativa al registro linguistico tu ci hai fatto vedere dei casi in cui c'è un problema proprio di registro che non è facile per nulla comprendere lo capivano nel seicento già nel settecento e nell'ottocento forse neanche in Spagna riuscivano bene a capirlo è il linguaggio appunto della delinquenza eccetera è il gergo è il gergo della delinquenza e volevo chiederti pensavo mentre parlavi alla questione della poesia cioè la poesia nei testi nel chisciotte l'importanza fondamentale che ha la differenza tra l'endicasillabo e l'ottosillabo ad esempio in determinati contesti penso non so all'episodio di Grisossomo in Marcella in cui lì è evidente che il registro ovviamente rimanda a modelli poetici ma che ovviamente il lettore percepisce subito come di tradizione popolare piuttosto che di tradizione colta secondo i modelli secondo diciamo i modelli italiani volevo chiedere non so se sicuramente ci avrei pensato eccetera cioè c'è un momento in cui c'è un salto di qualità nell'operazione traduttologica del chisciotte in Italia in cui si comincia a fare i conti anche con questa problematica che poi è molto difficile perché sappiamo bene che tradurre l'ottosillabo è più difficile ancora che tradurre l'endicasillabo perché in italiano l'ottosillabo suona a canzoncina no? e quindi è un'operazione molto difficile lo sappiamo occupandoci di teatro quanto questo ecco grazie la cortesia di rispondere un po' rapidamente poi magari rimaniamo anche poi la discussione in più successivo quando prego cercherò di essere veloce in realtà la domanda è una domanda centrale quella che ha fatto Marco ma è direi la necessità di una delle glosse di un apparato esplicativo di una annotazione a margine la dimostra il fatto che se non ricordo male perché ora vado un po' a memoria ci sono ben sei se non sette commenti secenteschi al testo di Gongora per cui la difficoltà intrinseca richiede questo e direi che dalla prima di Andres Cuesta poi a Peglifer García Salcedo Coronele e Vicugna dimostrano esattamente che il testo per essere compreso e qui come dire ancora una volta Gongora sarebbe stato contentissimo anche di vedere questo impegno direi a glossare il testo e quindi è una necessità che poi si è trovata e si è riscontrata anche in Don Damaso che di fatto fa una parafrasi ma non fa solo quello come dire annota attentamente il testo spiegando il processo che ha portato Gongora dalle sue fonti ad imitare però in modo assolutamente nuovo i classici e gli italiani perché non dimentichiamo che c'è anche Stigliani dietro questo eccetera e lo porta a quel testo quindi forse questo è necessario se uno davvero vuole presentare il testo in tutta la sua complessità io in quella prima in questo primo cioè secondo tentativo di traduzione ma prima pubblicazione in volume ho cercato un compromesso che sono state quelle assai scarse però insomma 30 pagine di note al testo e alla traduzione appunto dove appunto il testo si interfaccia la traduzione si interfaccia col testo e viceversa insomma per cui credo che la la soluzione editoriale se un editore te lo permette è piuttosto quella piuttosto che quella di una parafrasi ecco perché la parafrasi mi pare che snaturi un po' questa sfida scritturale riscritturale che porta noi insomma a cimentarci con la riproposta di una traduzione di un testo traducendolo in versi cercando di avvicinarci il più possibile al testo originale o meglio insomma cercando di produrre due testi che siano testi letterari entrambi ecco insomma l'altro lo vedo come un'operazione cioè la la parafrasi un'operazione più didattica neanche critico filologica ma didattica che naturalmente ha i suoi i suoi vantaggi non nego e non nascondo che tutti noi quando eravamo studenti abbiamo bevuto alla alle parafrasi di Dama Salonso per sciogliere per capire esattamente qual era il discorso insomma dove andava a parare ecco la frase per il resto appunto la domanda rimane aperta la risposta rimane ancora aperta ecco insomma cosa farò non lo so però qualche cosa senz'altro per portare per portare il lettore al testo e anche la mia risposta rimarrà aperta ancora prima di cominciare perché quello che mi sottopone e mi chiede Marco è un tema molto interessante me ne sono occupata un po' a partire soprattutto dalla non inclusione nella traduzione dei francesini dei versi dall'inserimento successivo con Alessandro Adimari c'è un altro un poeta che viene inserito come secondo diciamo traduttore scusate all'interno di una delle edizioni successive del francesini ma se poi la tua domanda riguarda più la contemporaneità io penso che manchi ancora una vera riflessione sull'importanza del verso nella traduzione del Chisciotte anche se devo dire che sicuramente Vittorio Bodini una riflessione seria l'aveva fatto proprio perché lui stesso era poeta quindi direi che sicuramente uno spartiacque importante è stata la sua traduzione non andrei oltre diciamo così nel commento magari insomma potrà essere oggetto di un'altra di un'altra di battito insomma per non rubare tempo le altre però sì sicuramente uno dei punti più problematici delle traduzioni anche delle ultime traduzioni dopo anche centenari le ultime celebrazioni delle ultime traduzioni del Chisciotte in lingua italiana e anche in altre lingue sicuramente grazie mille allora vi propongo di fare una breve pausa e di ritrovarci tra dieci minuti quindi alle 12 e 19 le 12 e 20 per il dialogo ho già avvisato ho chiesto il permesso a Giulio e a Asmina di fare comunque la pausa perché mi sembra importante per affrontare anche l'ultima sessione con tutta l'attenzione che merita e grazie intanto chiudiamo gli schermi oppure no come volete ma la riunione rimane aperta tra poco alle 12 e 20 finiremo un po' più tardi finiremo all'uno e un quarto nei 20 poi vediamo insomma come altre cose tanto poi avevo pensato una pausa pranzo abbastanza larga che si restringerà un pochino e allora vi presento adesso che è e quindi è arrivato il momento del secondo dialogo del nostro giornate e abbiamo Giulio Sanseverino che dialoga con Edmina Melawa ve li presento Giulio si è formato in culture moderne e traduzione tra l'Università di Palermo e l'Università di Torino nel 2019 è uscita per Sellerio la sua prima traduzione Il Feudo di David Lopez con una tesi sulle ritraduzioni italiane delle Fongé e la Peste di Camus attualmente sta concludendo il suo percorso di dottorato presso l'Università di Trento in cui tutela di tesi con l'Università de l'Ile Charles de Gaulle sotto la supervisione congiunta di Paolo Damassia e Cabina Cederma Allora presentare Yasmina Melawa insomma non è facile nel senso che insomma io vi dico solo che è dal 2005 che speravo di conoscere l'ho cominciuta l'anno scorso per l'occasione della nostra Summer School il lavoro di traduzione di Yasmina Melawa attraversa tutto il Novecento ha tradotto tra gli altri Patrick Chimoiseau Fred Vargas Colette Jean Genève Camel Daoud Mathias Senard Camus Appunto Vancler Saint-Exupéry e Daniel Pennac nel 2007 in occasione delle giornate della traduzione di Urbino ha ricevuto il premio per la traduzione del Centro Europeo per l'editoria nel 2019 è stato conferito il premio alla carriera per la traduzione letteraria Vittorio Bodini condato dall'istituzione Biblioteche di Roma con il Centro Sud di Vittorio Bodini lei è principalmente traduttrice ma anche insegnato traduzione all'Università degli Studi di Milano insegna tuttora alla civica scuola interpreti e traduttori al Piero Spirali di Milano e il loro intervento ha un titolo e questo titolo è Cronaca di una traduzione traduzione di una cronaca ritradurre la peste di Albert Camus lascio subito la parola a Giulio grazie grazie Francesca buongiorno a tutte e di nuovo quindi ringrazio innanzitutto Francesca Lorandini e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di queste giornate per le quali sono davvero grato perché credo non siano mai abbastanza le occasioni per parlare di traduzione soprattutto in presenza di chi le traduzioni le fa e infatti sono più che felice di avere con noi Yasmina Melavà per la quale mi trovo una profonda e sincera stima da ben prima di occuparmi del suo lavoro su Camus in maniera così approfondita perché appunto come diceva Francesca è la mia tesi di dottorato verte sulle traduzioni e le ritraduzioni italiane dello straniero della peste di Camus e ritengo fondamentale per qualsiasi discorso sulla ritraduzione poter dar voce oltre che ai testi anche a insomma chi ci sta dietro quindi la mia funzione sarà a parte una introduzione su romanzo sostanzialmente quella di intervistatore nella speranza insomma che possa nascere un bel dialogo su quella che ritengo una bella traduzione quindi partirei da alcune considerazioni preliminari proprio sulla peste la cui traduzione trattandosi di un romanzo già in larga parte noto al pubblico dell'elettrice e dei lettori italiani non aveva più tra i suoi compiti necessariamente quello di introdurre per la prima volta il testo e di come dire acclimarsi a una diversa cultura ma in quanto seconda traduzione si trovava semmai a stabilizzare difendere forse anche ridefinire la posizione di quest'opera all'interno di un certo canone letterario che è quello dell'italiano tradotto inteso anche come come tavola di valori diciamo di una comunità e se è vero che ogni testo letterario instaura tramite la traduzione un certo rapporto con il paese d'accoglienza se come dice Yves Chevrel le ritraduzioni non solo attualizzano ma contribuiscono ad ancorare sempre di più un'opera straniera al patrimonio culturale di un paese la peste in questo senso è un caso particolare poiché sia le sue fasi germinative sia poi la sua ricezione in patria come all'estero furono fortemente legate sin da subito al contesto storico in cui romanzo a parve che ricordo è stato tre anni dopo la caduta del governo di Chiesa quindi abbiamo da un lato un enorme successo di pubblico sin da subito sappiamo che dal giugno scusa ti interrompo un secondo togli le mani dal microfono perché ogni tanto scusami non ci riflettevo grazie quindi dal giugno del 47 che è l'anno di pubblicazione al novembre dello stesso anno abbiamo cinque ristampe per un totale una tiratura totale di 119.000 esemplari che per l'epoca insomma è un numero ben guardevole e al punto che Camus stesso si disse deconsette dato che invece per lui la peste era un lui la chiamava un livre un manqué quasi un tentativo fallito addirittura in una lettera a Louis Guillou del settembre 46 aveva scritto «Jugger ça dans mon tiroir comme quelque chose d'un peu dégoutant» lo tengo nel cassetto come qualcosa di un po' disgustoso e infatti aspettò quasi sei mesi prima di consegnarlo al suddittore Gallimard e quindi da un lato successo di pubblico rifiuto almeno iniziale da parte di Camus e dall'altro nonostante il prix des critiques che ricevette nel 1947 la peste ebbe un'accoglienza mista da parte della critica specialmente nei decenni successivi e questo diciamo in questo fu vittima soprattutto del confronto con l'étranger uscito 5 anni prima e che fu da molti e per lungo tempo considerato superiore almeno dal punto di vista formale rispetto alle traduzioni della peste nel mondo diciamo che il romanzo inizia subito o comunque presto a attraversare le frontiere nel dicembre del 47 Gallimard annuncia nel bollettino della novela più francese che la peste sarebbe stata tradotta in danese finlandese norvegese svedese in lingua inglese sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti e poi addirittura nel 48 abbiamo la prima traduzione italiana ad opera di Beniamino d'Alfabro e nel 49 addirittura in giapponese cosa che forse oggi insomma non risulta così eccezionale ma per il 47 era probabilmente lo era ora si è parlato nel corso degli interventi di questi giorni di classici moderni e bisogna riconoscere che ad oggi la peste risponde bene all'idea a quell'idea calviniana che si evocava ieri sera di grande classico non solo per il suo valore letterario non solo perché è un romanzo tutto sommato di impianto classico con una struttura che secondo molti critici ricorda quella delle tragedie greche in cinque atti perché abbiamo avuto la descrizione di questa epidemia che progredisce nella città di Orano fino a raggiungere il suo acne nella parte quarta e poi a scomparire benché non è mai in via definitiva nella visione di Camus ma è un classico dicevo soprattutto perché dopo aver parlato a molte generazioni secondo prospettive diverse a ogni rilettura tiene la prova del tempo è un libro in cui confluiscono moltissimi temi che si rivelano però a seconda del tipo di lettura che se ne dà ed è d'altronde lo stesso Camus ad invitarci già tramite l'epigrafe di apertura tratta da Daniel Tifo forse Antonio Pippo la riconoscerà che adesso condivido ecco qui ecco dovresti vederla e tramite già questa epigrafe appunto Camus ci invita a guardare oltre il grado zero costituito dalla rappresentazione degli effetti di un'epidemia di peste in una città della costa algerina e questo invito tra l'altro in lui è già un'aspirazione programmatica prima ancora di completare la stasura del romanzo nel gennaio del 43 infatti nei suoi carnet nei suoi quaderni scrive e qui ci sono già i nostri temi fondamentali dell'opera c'è l'etuffamento questo suffocamento che ovviamente si riferisce al gioco diciamo dell'occupazione nazista della Francia ma c'è la sofferenza c'è l'esilio c'è la necessità di testimoniare insomma all'epoca della pubblicazione quindi nel 47 i riferimenti più immediati erano sicuramente appunto la guerra e l'occupazione nazista detta anche infatti la Pesbrun ma perché c'erano anche come vediamo nelle vicissitudini di alcuni personaggi per esempio il giornalista Rombert aspetti personali della sua vita la sua malattia cambierà il tubercolotico l'esilio forzato che è la cura di questa malattia a cui lo porta diciamo che lo tiene lontano dal Geri per molto tempo è separato dalla moglie e la necessità di testimoniare e tanti altri temi poi facendo quindi questo per quanto riguarda l'epoca di ricezione ma facendo un balzo in avanti al futuro quindi al nostro presente non vorrei soffermarmi troppo sulla concretezza tratti spaventosa che hanno assunto certi passaggi del romanzo nell'arco dell'ultimo anno ci sono frasi riferimenti per chi lo ha letto lo sa che sembrano ricalcare esattamente le vicende di questo nostro tempo pandemico per esempio la descrizione di alcuni dei protocolli di profilassi o la gestione delle autorità da parte delle autorità dell'epidemia ma anche episodi specifici per esempio i fiori le rose invendute che appassiscono nei cesti dei fiorai mi ricordo un servizio al telegiornale l'anno scorso mi pare a Padova successo qualcosa di simile o le varie forme di superstizione che nascono tra i cittadini intorno all'epidemia che oggi forse verrebbero dette fake news o comunque hanno preso quella forma lì o il trascorrere di un tempo sempre uguale a se stesso in quarantena che inizia a misurarsi con il numero dei morti e dei contagi piuttosto che con il passare dei giorni e dei mesi e poi un ultimo esempio perché più recente il ritorno alla fine del romanzo dei giovani chiestosi per le strade e la città che forse oggi persino Camus avrebbe chiamato assembramento comunque oltre all'epigrafe che ci invita a sostituire un'immagine con un'altra ci sono poi molti elementi e qualità della peste tramite i quali Camus orienta la nostra interpretazione o comunque ci offre molteplici possibilità ermeneutiche punto cruciale per qualsiasi traduzione che voglia di spiegare le potenzialità di un testo ad esempio lo stato di sospensione in cui si trova la città di Orano in una sorta di atemporalità e direi anche di atopia nel senso nel senso nel senso che già dal primo capitolo Orano è una tipica città mediterranea ma è al contempo astratta a null'uogo quasi tramite il lavoro di sospensione di un principio così da poter rappresentare tutte le città della terra colpite dal flagello della peste quindi dal male oppure ancora il binarismo di alcuni personaggi che mettono in forma le dicotomie del conflitto tra individualismo e impegno civile collettività distacco impegno appunto azione civile e molti elementi e qualità che non solo prestano la peste e la lettura allegorica ma ne fanno un'opera pensata per manifestare diversi livelli di significazione tanto che una delle argomentazioni portate dall'autore che rimproverava di non aver nominato apertamente almeno all'inizio il nazismo stava proprio nella volontà di Camus di non limitare a una contingenza storica per quanto trasnazionale una condizione la peste che per lui è una condizione universale può essere l'avvenimento in sé quindi la malattia ma anche l'infelicità il male la condizione umana in sé poi c'erano anche altre modificazioni politiche ma sorvolerei su questo mi sembra invece importante adesso prima finalmente di dare la parola a Yasmina sottolineare questa capacità dell'opera di parlare diversamente a seconda del pubblico e dell'epoca che la riceve perché proprio qui interviene il ruolo vitale di una traduzione e di una ritraduzione in particolare se consideriamo che sono i destinatari l'uso linguistico le convenzioni editoriali l'esigenza traduttiva in generale il contesto di ricezione a cambiare nel tempo e se siccome è difficile preconizzare diciamo la frequenza delle ritraduzioni dato che non seguono una cadenza temporale sistematica partirei proprio con una domanda che forse meriterebbe da sola tutto il pomeriggio di risposta ma insomma mi sembra importante darle risalto e cioè considerando che la prima traduzione la prima è finora a parte questa nuova di Yasmina unica traduzione era quella di Benemino d'Alfabro sempre per Gompiani del 48 quindi un anno dopo la pubblicazione in Francia dell'opera molti molti decenni fa perché ritradurre la peste oggi e come ritradurre la peste oggi e ringrazio Yasmina grazie grazie vabbè prima volevo ringraziare veramente Francesca Lorandini perché veramente prima gliel'ho scritto in privato che è un portento ed è vero che è un portento cioè ho organizzato veramente questa due giorni grandiosa per cui davvero grazie per per avere messo in piedi questa bella occasione poi volevo ringraziare anche Giulio perché noi ci siamo un po' parlati a distanza progettando questo incontro per sommi capi e adesso però sentire appunto la sua presentazione mi riempie di gioia perché mi ci ritrovo mi ci ritrovo moltissimo soprattutto nell'enfasi data giustamente alla diciamo alla dimensione veramente di testo aperto di questo romanzo e alla sua continua capacità di parlare di riparlare del nostro tempo per cui era fra l'altro proprio questa questo un punto su cui avevo proprio un po' ragionato anche in previsione di questo incontro con voi per quanto riguarda perché ritradurre io non voglio neanche mettere la punta del piede sui massimi sistemi sul perché si ritraducono i classici c'è una cosa che mi fa piacere però condividere con voi quindi perché perché ritraduciamo oltre alla cosa che si dice che però secondo me ormai mostra un po' la corda perché i classici invecchiano dobbiamo togliere la polvere io comincio peraltro non ho non ho sentito esprimersi in questi termini in questi giorni con mio grande piacere ma proprio dopo aver lavorato alla peste e dopo aver incontrato tante volte nel corso della mia vita la peste perché l'ho incontrata a 15 anni la prima volta e poi mi sono laureata su Camus e poi l'ho tradotta dal 15 ho lavorato dal 2015 al 2017 e poi l'ho incontrata anche in dei momenti della vita e mi sono resa conto proprio alla lettura cioè nei panni di lettrice di come questo romanzo e quindi forse come i veri grandi classici in realtà non siamo noi traduttori che andiamo nel passato come degli archeologi a disotterrarlo ma io credo che i grandi classici siano molto più avanti di noi e ci aspettano nel futuro e siamo noi che li rincorriamo io da qualche anno poi sembra quell'immagine effetto dai che vado al convegno a portare questa immagine effetto che siamo noi che li rincorriamo in realtà io ho proprio la sensazione che fra i vari traduttori che si susseguono sullo stesso testo con la peste siamo solo in due ma abbiamo visto esempi di testi su cui hanno lavorato più traduttori è come se io mi figurassi una specie di staffetta in cui noi traduttori ci passiamo il testimone per rincorrere un testo che è molto più avanti di noi e che in realtà non facciamo questa operazione di togliere la polvere ma appunto rincorriamo un romanzo che non solo ci aspettava nel 2019 era lì la peste ci aspettava noi non eravamo ancora arrivati alla pandemia ma la peste c'era già per raccontarcela a me personalmente qui apro una piccola parentesi personale prima di ritrovarmi rispecchiata dopo averlo tradotto nel quindi dopo averlo tradotto ritrovarmi nel 2019 con la pandemia io mi ero già paurosamente ritrovata nella peste in quegli anni fra il diciamo il 2015 e il 2016 in cui soprattutto in Francia la peste più più virulente era la cosiddetta peste verte quella che i francesi chiamano la peste verte cioè il terrorismo islamico per dirla in maniera un po' rudimentale io ho riletto la peste proprio in Francia nell'estate del 2015 credo no era nell'estate del 2016 in verità tra il 2015 insomma nel 2015 2016 e leggevo quel romanzo con i mezzi di informazione che raccontavano la strage della promenade des anglais di Nizza avevano raccontato Charlie avevano raccontato il Bataclan e leggevo quel romanzo e io avevo la sensazione che questa comunità di uomini colpita da un flagello dell'epidemia raccontasse anche una comunità di uomini totalmente sgomenta e spiazzata da un altro tipo di pestilenza e uso questa parola non a caso perché sono proprio anche degli intellettuali algerini che parlano della peste verte come immagine del fanatismo e del terrorismo islamico e nel leggere quel romanzo io sentivo proprio questa idea appunto di una comunità di uomini colpiti da un flagello quando poi appunto invece siamo arrivati al 2019 molto di più senza altro ancora più vivamente ho sentito come come era capace di raccontarci la nostra pandemia e tanto più allora ho avuto appunto non solo la sensazione che i classici sono davanti sono come quando ci si aspetta l'autogrill la peste all'autogrill che ci aspetta che ci aspetta noi siamo partiti dopo e la raggiungiamo scusate l'immagine poco poco nobile ma insomma è un'impressione un'impressione e allora proprio per questa capacità quindi di continuare a parlare e di riformulare come una narrazione nuova direi che questa apertura è la dominante più cruciale per un traduttore e questa possibilità di continuare a dire di continuare a parlare là appunto negli autogrill dove ci aspetta per me traduttrice significa una come dire una bussola che è quella del silenzio cioè la cosa che a me sta più a cuore quando traduco è non riempire mai i silenzi che un testo racchiude non riempirli mai di parole o di un senso che può essere appunto leggo la peste durante la stagione più cruenta del terrorismo e forzo e lo riempio come dire di quel senso leggo la peste durante la pandemia e riempio i silenzi le lacune proprio c'è quel saggio che è molto bello di Nicola Gardini che si chiama lacune che mi ha illuminato su questo sul ruolo cruciale dei vuoti delle lacune dei silenzi nei testi letterari e quella possibilità di lasciare quindi che un testo continui a parlare vuol dire stare sempre un passo indietro vuol dire fare quella famosa come dire economia testuale del togliere del continuare a lasciare che il lettore possa giocare la sua parte possa portare il suo senso dentro a quei vuoti a quegli spazi forse questo questo è una può sembrare una così una una giustificazione a posteriori anche di una cosa che Giulio mi ha fatto notare e di cui non mi ero assolutamente accorta che ho dimenticato e qui spero che facciano un'altra edizione così lo suggerirò a buon piani ho dimenticato anche una breve frase nel primo è nel primo capitolo vero Giulio mi ha fatto sì sì e poi mi sono accorta anche di un'altra cosa nell'ultimo che ho dimenticato di mettere dottor cioè dice il dottor io ho messo solo e allora poi appunto perché uno deve sempre trovare giustificazioni a preco diceva a me sta talmente tanto a cuore di togliere di lasciare spazio di non riempire tutti i vuoti che poi faccio anche delle dimenticanze e per quanto riguarda quindi la necessità di ritradurre per quel che riguarda questo testo direi che oltretutto la prima traduzione di Beniamino del Fabbro meritava veramente una ritraduzione non lo dico perché appunto questa ritraduzione l'ho fatta io ma per esempio la traduzione dell'étranger di Zevi a mio parere è molto meno invecchiata cioè poteva bastare qualche ritocco questa traduzione invece è davvero molto non so se è invecchiata forse è una traduzione già nata male ed era una traduzione peraltro questo Beniamino del Fabbro di suo era scrittore poeta pittore pianista di tutto e di più e questo anche la dice un po' lunga su come rischiano di essere ingombranti e pericolosi i scrittori poeti pianisti e pittori che si mettono a fare i traduttori e poi chiudo perché appunto poi mi faccio prendere dalla foga a proposito appunto del proteggere i silenzi la cosa più vistosa di non protezione dei silenzi nella traduzione di che poi vedremo magari vediamo vedremo poi proprio anche gli esempi nella traduzione del 48 è l'intervento veramente massiccio sulla punteggiatura che è un po' un tic di molti traduttori non consapevoli che va nella via della normalizzazione cioè di solito e come dire il cambiamento traduttivo nella punteggiatura è quasi sempre unire delle frasi perché unire delle frasi cosa vuol dire? vuol dire togliere dei punti e un punto che cosa è se non un momento di silenzio in cui si fa silenzio per una frazione di secondo continuare a togliere i punti nella fattispecie qui mettendo dei punti virgola ma in una maniera non so come non so come dire ossessiva continua sì dopo lo vedremo vuol dire veramente togliere qualsiasi pausa di silenzio e quindi togliere esattamente quella possibilità appunto di vuoto ci sarebbero anche altre cose da dire sul senso del ritradurre però appunto il tempo poi è quello che sì penso verranno fuori comunque guardando anche i testi direttamente sì mi rialaccio anche un po' quello che dicevi su appunto sul senso di ritradurre in generale e facendo un passo indietro adesso sul momento sull'incontro con questo testo e cioè io immagino che trovandosi davanti a un testo monumentale come la peste di Camus le scelte che si impongono a chiunque traduca riguardo alla prospettiva da adottare si possano ridurre sostanzialmente a due poli magari con dei gradi diciamo dei gradi di variazione quindi o prendere in considerazione tutto parte di quel che si è detto dei come dire del del bagaglio paratestuale che accompagna il testo quindi studi sull'opera studi critici studi sull'autore le vicende bibliografiche la ricezione dell'originale eccetera oppure adottare un po' quello che i new critics chiamavano close reading cioè lasciar parlare un po' le parole sulla pagina ed entrambi forse gli approcci possono avere dei vantaggi e degli scantaggi sicuramente nel primo caso proprio l'evidenza per cui più ne so meglio è nel secondo caso un po' ne parlava Andrea Pini ieri il fatto che ci possa essere una una sorta di ansia di tematizzazione quindi di saper troppo tanto su un'opera quello che dicevi anche prima di attribuire a certi magari alla semantica di alcune parole qualcosa che sicuramente parte del traduttore ma che magari dipende dal contesto anche proprio delle contingenze che si vivono allora la domanda molto semplicemente è nel tuo caso quale linea di condotta hai seguito e come hai pensato la strategia di traduzione prima di iniziare appunto il processo di traduzione io ho il guaio era che avevo già lavorato tanto su Camus quando appunto durante alla fine degli studi universitari per cui l'opzione io e la pagina era impraticabile perché ero già un po' e quindi in realtà ho letto tutto il leggibile mi ha salvato però mi ha dato un po' di frustrazione ma mi ha anche salvato il fatto che tranne forse un pochino per l'étranger Camus ha una sconfinata bibliografia ma dove i testi come dire mi sono resa conto che i testi che lavorano davvero sulla sua lingua sulla sua sullo suo stile sono pochissimi perché ci si concentra molto oltre che vabbè su di lui come figura di intellettuale sui suoi temi tutt'al più ma un davvero un lavoro di analisi sulla sua lingua c'è molto molto poco e quindi in realtà quindi tutto quello che ho letto ho letto davvero tanto sono stata proprio tanto credo di aver letto tutto quasi tutto quel che c'era la BNF a Parigi l'ho letto con gran con gran piacere peraltro poi però questo non mi ha impedito di aprire anche poi quella fase del faccia a faccia con la pagina e con la parola che poi è un approccio da traduttore in realtà l'approccio da traduttore rimane che a un certo punto tu lasci tutto fuori dalla porta e sei e quello che insomma quello che hai letto lo filtri lo digerisci in qualche modo ma poi c'è la pagina e c'è c'è la singola parola e c'è proprio la tenuta della pagina quindi quindi sono riuscita relativamente credo insomma almeno come lavoro preparatorio e non è sempre così cioè per esempio io ho ritradotto Le Grand Monde di Fournier anche lì ho passato 15 giorni a leggere di tutto e poi per esempio ci ripensavo oggi appena è uscito io ho ritradotto Le Diablo Corps di Radiguet e per Radiguet per esempio ho letto pochissimo mi sono proprio buttata direttamente ributtata nel romanzo proprio intenzionalmente quasi volendo far parlare solo quel romanzo e cercando di nuovo di sentire cosa cosa aveva ecco dove mi aspettava invece quindi effettivamente dipende dai casi dipende molto certo sì comunque concordo soltanto sulla difficoltà di trovare studi sullo stile della peste sullo straniero ce n'è fin troppo no perché sono sempre benvenuti ma sulla peste io stesso per la tesi ho avuto molte difficoltà e no ci volevo sì ci proverò ti farò sapere se ne trovo e quindi allora abbiamo parlato un po' del tuo incontro con Camus appunto da prima dell'università mi faceva piacere sapere come invece è avvenuto l'incontro da traduttrice con la peste quindi il tuo rapporto di collaborazione con Bonpiani se c'era diciamo un progetto editoriale perché adesso stanno scendo varie ritraduzioni di immagino tutte le opere di Camus pian piano prima perché fra dieci anni scadranno i diritti quindi immagino che Bonpiani si sia mostrato giustamente in tempo e appunto ti volevo chiedere come è nata questa collaborazione e sì ecco di parlarci un po' di questo in questo aspetto io io li ho un po' tormentati quando ero giovane nel senso che appena insomma qualche anno dopo essermi Camus evidentemente è proprio l'uomo della mia vita insomma con tutto rispetto per i per i per i congiunti perché appunto mi sono laureata su Camus poi nel 84 è uscito in Francia Le Premier Homme che secondo me fra l'altro è il suo romanzo più bello in assoluto che era il romanzo che Camus aveva nella valigetta in macchina nel quando è morto nel gennaio del 1960 ed era quindi quasi finito però insomma era ancora un inedito e questo romanzo viene fatto uscire curato dalla figlia Catherine Camus solo nel 1984 io lo leggo immediatamente con quel candore proprio insomma non proprio da ragazzina ma insomma ancora giovane prendo il telefono e chiamo Bonpiani dicendo io ho fatto la tesi su Camus quindi questo lo voglio tradurre io e mi ricordo che la Sgarbi carinissima peraltro mi disse ma ci fa tanto piacere ma che peccato però abbiamo già affidato la traduzione Ettore Capriolo ci dispiace vabbè mollo il colpo poi in verità qualche anno dopo mi viene affidato proprio da Bonpiani di rivedere per l'opera completa dei classici Bonpiani che era insomma era come un po' la versione della playad di Casa Bonpiani di fare una revisione redazionale la chiamavano delle traduzioni perché stavano andando in stampa e si sono accorti che c'erano molti problemi molti errori di traduzione proprio marchiani in alcune traduzioni e quindi mi hanno dato praticamente tutta l'opera di Camus però in due mesi da rivedere rapidamente e trovare gli errori di traduzione e peraltro probabilmente perché ero giovane e un po' sprovveduta e perché i tempi erano disumani ancora qualcosa è rimasto cioè soprattutto nello straniero sono rimaste delle cose che poi sono state peraltro riportate anche nella nuova traduzione ma vabbè e quindi insomma c'era questa specie di filo conduttore io sognavo di ritradurre le transgene in realtà era proprio una cosa che avrei voluto fare e in verità mi viene proposto invece nel 2015 di ritradurre la peste all'interno ecco venendo al senso poi della politica di Bompiani di quella che Beatrice Masini che adesso è il direttore editoriale insomma di Bompiani chiama con una bella definizione secondo me la manutenzione del catalogo cioè Bompiani ha una serie di autori stranieri non solo ma stranieri molto molto importanti che sono hanno sono presenti con delle vecchie traduzioni a traduzioni anche molto vecchie e appunto periodicamente occorre che appunto queste vecchie traduzioni siano valutate riesaminate e appunto valutato se farli ritradurre io ho per esempio guardato su richiesta di Bompiani la traduzione di Capriolo del primo uomo e per esempio quella è una traduzione che sta ancora in piedi che non ha bisogno di essere ritradotto per cui la manutenzione vuole proprio dire vediamo in che stato è e se può funzionare ci sono adesso invece ancora in commercio delle traduzioni che davvero è brutto dire funziona o non funziona a me non piace ma insomma un po' dico uso anche io questa espressione ma insomma delle traduzioni che richiedono o meno una ritraduzione e soprattutto ecco in cui interviene peraltro so che interviene in questa in questa manutenzione del catalogo di Camus nel catalogo Bompiani un ruolo preponderante ce l'hanno anche gli eredi e appunto gli agenti che curano i diritti di Camus che sono molto molto puntigliosi e molto attenti ecco al destino delle traduzioni io a ogni ritraduzione di Camus gli eredi vogliono il mio curriculum anche se la traduzione precedente l'ho fatta due mesi prima poi so che non so avranno i loro lettori d'ufficio per cui io sono stata in contatto con diciamo il segretario di Catherine Camus che mi ha scritto sì sì complimenti per la sua traduzione della pezza abbiamo visto quindi e questo peso degli eredi sulla casditrice un po' conta anche sulla scelta dei titoli per esempio adesso esce il carteggio Camus Casares Bonpiani aveva proposto di non mettere semplicemente corrispondenza ma mettere un altro titolo gli eredi hanno detto no non siamo d'accordo insomma quindi anche questo conta nelle politiche certo bene beh io avrei avuto un'altra domanda ma forse è meglio passare i testi perché altrimenti rischiamo di non avere proprio margine e allora se riesco condividerli avevamo preparato appunto abbiamo scelto con Yasmina l'incipito comunque il primo capitolo poi vedremo cosa guardare e credo così di riuscire a farlo ecco sì ok grazie allora appunto avevamo scelto l'incipit la la pagina finale è poi un brano in mezzo la vediamo credo più di dieci minuti mi sa forse meno però insomma qualche commento c'è da farlo appunto io ho voluto mettere a confronto il test originale e le due traduzioni per dare un'idea a chi riesce a farsene anche magari semplicemente leggendo delle differenze quelle che io ho notato poi lascerò Yasmina il piacere e il compito di commentare su questa traduzione però sicuramente quello che viene fuori subito sono i tanti calchi della traduzione di D'Alfabro che a volte funzionano come funzionano per esempio per le trangè lì forse ancora di più a volte risultano veramente pesanti e poi ho notato anche ora qui non precisamente in questo punto però ve ne farò vedere alcuni oltre ovviamente delle formulazioni che oggi risultano anacronistiche o comunque vecchiate un po' troppo ci sono dei slittamenti semantici che non sono forse dei veri e propri errori però a volte risultano imprecisi per esempio vediamo se posso trovare nel volo ecco per esempio in bio diviso gli esempi per avere qui abbiamo da un'altra petite ville se l'effet del clima e se l'effet del clima tutto là si fa un sembl di un qui chiaramente come poi anche jesmina traduce bene si intende dire non che si fa insieme come persone ma contemporaneamente in un certo senso la prima traduzione come in molti altri casi ricalca con insieme e questo dà un effetto secondo me insomma di slittamento proprio semantico ce ne sarebbero tanti in realtà da poter far vedere però interesserebbe di più intanto avere un commento da parte di jesmina su proprio su quello che interessa di più io scorrerò a seconda delle tue indicazioni rapidissima come sempre gli incipit sono cruciali perché appunto è dove il lettore entra e dove poi molto biecamente appunto anche dal punto di vista editoriale è il punto in cui uno in libreria è in piedi e legge le prime quattro righe se non funzionano chiude il libro e lo posa sullo scaffale ma questo non è il caso qui queste prime righe sono state veramente qualcosa su cui sono tornata penso delle decine di volte per vari motivi prima di tutto quel che mi faceva veramente diventare pazza e poi qui è stata preziosa in questa soluzione che è un po' libera cioè di tagliare la testa al e di mettere semplicemente descritti questo sono in questo sono debitrice alla traduzione inglese che io avevo e che ogni tanto guardavo perché gli inglesi che vanno via molto più disinvolti alle volte fin troppo nel tradurre credo che fosse described e io ho detto ti ringrazio caro traduttore inglese perché questo è perfetto descritti io in italiano davvero non avevo voglia di mettere che sono oggetto che fanno oggetto anche perché in questa prima frase credo ci sono due elementi davvero importanti che sono due parole che sono la parola chronique cronaca perché Camus usa subito la parola cronaca perché erano cronache della peste quelle che lui aveva letto come documentazione e usa cronaca il narratore usa la parola cronaca in antitesi in opposizione alla parola romanzo la cronaca è qualcosa di asciutto neutro anche un po' noioso se vogliamo è un verbale è un resoconto è qualcosa dove non c'è decorazione dove non c'è ornamento e cioè dove non si inganna sostanzialmente e quindi qui c'è la cronaca rigorosa di una comunità di uomini alle prese col flagello e l'intento del narratore insomma dell'autore e poi anche del narratore che poi si scoprirà chi è è proprio quello di farsi il cronista di una città colpita da un flagello quindi la parola cronaca è fondamentale e torna più volte nel romanzo e ancora più importante è quella parola ordinaire che creava un sacco di problemi della vita generale questi eventi n'iette pas leur place sortant un peu de l'ordinaire e poi dice Oron è an effet une ville ordinaire ecco questa idea di qualcosa di ordinario non è la parola giusta appunto cioè di comunissimo quindi di grigio di comune di comune vuol dire di ordinario vuol dire condiviso da tutta la comunità degli uomini e qui era un po' un pasticcio perché uno è un sostantivo sortant de l'ordinaire e l'altro era une ville ordinaire e con quelle specie di miracoli non so dovuti alla passeggiate di solito sono nelle passeggiate che viene in mente che io andavo andavo a passeggiare mi ricordo controcevo la peste proprio in un parco vicino a casa e ogni tanto avevo proprio come delle delle intuizioni e quindi questa questa idea di mettere fuori dal comune poi un posto comunissimo mi è sembrata una soluzione che fosse diciamo leggibile anche se io me ne infisco abbastanza che una cosa sia leggibile e nello stesso tempo tenesse questa parola che è una parola chiave comune ordinaire insomma scusami su questo io ho trovato anche dei parallelismi che tu hai mantenuto e creando proprio un'organicità semantica nel testo e vado per questo per farlo vedere all'ultima pagina del romanzo in cui ci sono una serie di problemi nella prima per dirmi una i primi razzi di festeggiamento ufficiali che ovviamente sono fuochi d'artificio però a un certo punto viene detto in francese che Rieu beh bisogna forse leggere tutta la frase per capire però l'esame était toujours le même mais c'était leur force e leur inoxance e c'est ici qu'on parle de toute douleur Rieu sont qui li raggiungi quindi nella prima traduzione abbiamo Rieu sentiva di raggiungerli appunto traduzione letterale come Beniamino Dalfabro fa in molte occasioni che però per me non funzionava bene perché non dava quel senso cioè non rende il senso del raggiungere cioè del trovarsi insieme a loro e quindi vedevo che tu hai utilizzato appunto si sentiva accomunato a loro quindi hai recuperato questo senso di comunità che tra l'altro nell'ultima pagina del romanzo prende tutta la sua importanza perché la città finalmente diventa insomma grazie alla collettività alla solidarietà è riuscita a sconfiggere comunque almeno temporaneamente il il flagello quindi appunto per fare un esempio di come poi i rimandi non sono sempre una parola che deve essere mantenuta in tutte le sue occorrenze ma anche ritrovarla in altre in altri passaggi tra l'altro scusami a proposito di questo parla tu ci sono davvero le parole chiave e questo lo ricollego a quello che dicevi prima rispetto alle tante letture e anche e anche all'aspetto teorico ci pensavo prima di arrivare qui stamattina di arrivare che bello vabbè prima di essere già qui stamattina che ci sono più vado avanti e più come posso dire anche delle prese di posizione che io avevo qualche anno fa a livello teorico io sono una bermaniana di ferro io sono una sorcier io sono più traduco e più sprofondo davvero nelle parole e nelle reti di parole e più diventano labili queste appartenenze di anche di appunto sono una sorcier sono una liste sono un'aderenza per me c'è davvero l'attenzione e l'ascolto alla pagina ecco allora se essere una sorcier vuol dire un ascolto il più possibile scrupoloso alla pagina e come dicevo prima anche i suoi silenzi ok allora sono una sorcier o una sorcier più facilmente c'è questa assonanza un po' incredibile allora mi sa che non abbiamo più molto tempo volevo solo far notare uno per esempio dei possibili motivi ce ne sono diversi ma essendo questo l'ultimo paragrafo della traduzione abbastanza notevole i vari elementi di contrastività tra francese italiano che in una ritraduzione oggi sarebbero molto più insomma bacchettati evidentemente qui sono passati perché abbiamo questa frase tra l'altro stupenda che fa commuovere ogni volta la rilettura e a un certo punto viene detto la morale un po' dell'opera che dice ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai che può restare per decine di anni addormentato nei mobili nella biancheria che aspetta pazientemente nelle camere nelle cantine nelle valigie nei fazzoletti nelle cartacce che forse verrebbe giorno in cui per sventura insegnamento agli uomini la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandare e morire in una città felice quindi qui c'è il condizionale presente che è l'uso del francese che per fortuna tu hai poi perché veramente secondo me spezza la lettura e ammazza tutto il tono finale quindi sarebbe venuto il giorno in cui sono ovviamente delle come dire delle evidenze però in certi passaggi rendono anche palese al di là di qualsiasi altra finezza la necessità a volte di una ritraduzione secondo me al di là appunto dei razzi di prima oppure delle tantissime una ripetizione che ho trovato molto in Dalfabro sono le locuzioni restrittive con ripetute in italiano quasi sempre anzi direi sempre con non era altro che non poteva vediamo faccio vedere solo quest'ultima ma egli sapeva qui ma egli sapeva tuttavia che questa cronaca non poteva essere la cronaca della vittoria definitiva non poteva essere che la testimonianza di quello che si era dovuto compiere questo viene ripetuto sempre a volte funziona bene nell'Incipit per esempio siccome si lavora molto sul negativo perché la città è una città senza piccioni senza alberi senza nulla c'è tanto negativo però a volte no per esempio in Dalfabro la città è definita un certo punto senza pittoresco tu mi pare non è qui quindi non non lo rivedo però l'avevi risolto questo ripetere non è che non è che non funziona bene diciamo in tutti in tutti i suoi passaggi e bene ti lascio le ultime parole perché immagino le dobbiamo chiudere quindi non voglio ulteriormente questa ultima pagina io ogni volta infatti non riesco neanche a leggere lì viene fuori il patetico però veramente a me commuove ogni volta quindi faccio fatica anche a leggerla perché poi perché poi la trovo veramente la trovo veramente potente perché qui è come davvero ecco se quella dimensione comunque di patos che ecco che era anche una delle cose che mi sembrava che mancasse nella vecchia traduzione cioè Dalfabro aveva schiacciato molto il pedale della dimensione cronaca un po' noiosa un po' grigia anche appesantendolo però la forza di questo romanzo è che accanto al rigore della cronaca e alla volontà al rifiuto dell'ornamento al rifiuto dell'ingannare e quindi ha una voce che è la voce dell'intera città ci sono poi ed era poi l'esempio che avevamo che avevamo scelto quello in mezzo fra lì incipite la fine ma lo faremo l'anno prossimo ci sono poi invece i momenti in cui erompe la voce dei singoli e la sofferenza il senso dell'esilio cioè quella nostalgia delle felicità individuali che lo sappiamo tutti bene insomma bisogna mettere da parte nei periodi di flagello è comunque una specie di fiume che corre sotto questa cronaca dove tutto deve essere un po' tenuto a bada e invece alla fine è come se l'emozione potesse finalmente uscire fuori e questo sia in questo punto che in altri punti c'è la dimensione del ritmo che si mette in sintonia con il pathos per cui ci sono alcuni momenti davvero di commozione che anche credo che colgano il lettore alla sprovvista in termini di commozione proprio perché staccano rispetto al tono del verbale del resto del romanzo e in che cosa esce quella quella commozione con davvero almeno quello che ho percepito io stando lì a mettere in fila le parole con un senso davvero molto compiuto del ritmo per cui io per esempio in quest'ultima parte si sente si sente proprio ecco questa emozione che fluisce come una specie di musica che chiude di musica finale e quindi e quindi è lì ecco che mi è sembrato dover lavorare così come in alcune immagini nell'interno appunto ci sono queste immagini del giornalista Rambert che si aggira nella stazione vuota guardando i cartelli che invitano a una vita felice a Cannes e a Bandol e credo che quelle immagini lì restituiscono l'idea dell'esilio più di tutti i discorsi sull'esilio e sulla solitudine basta io penso che siete tutti stremati se avete qualche domanda però anche no ma forse c'è lo spazio dopo per le domande vero Francesca sì io direi che lo possiamo prendere adesso possiamo fare qualche domanda adesso prendiamoci il tempo che è a una e mezza poi ricominciamo alle domenze finiamo con un po' di ritardo la sessione della mattina ma secondo me possiamo prenderci ancora un quarto l'ora almeno io ho preso un caffè prima ce la faccio poi con l'aspirina che ti danno a te esatto sto vedendo sto guardando come vale il solito discorso scrivete pure se volete intervenire in chat alzate la mano e magari ecco lascio subito la parola a Paolo che ho visto che ha alzato la mano attivo il microfono sì sì volentieri faccio anzi più domande perché è stato talmente bello grazie a tutti e due anche perché vi siete orchestrati veramente benissimo e grazie a Yasmina per delle immagini che ci ha dato che sono straordinarie io devo dire questa idea del traduttore che non è un archeologo che va a depussierea a disotterrare verso il passato ma che corre verso il futuro perché il classico sta sempre avanti e il ritraduttore che è un corridore a staffeta bellissimo ci si passa il testimone per andare avanti un'altra cosa che mi è piaciuta molto è proprio questa idea del traduttore che non deve chiudere i silenzi non deve riempire i silenzi ed è bellissima è vero perché il classico sta avanti proprio perché è pieno di questi silenzi che in qualche modo devono essere riempiti ma dal lettore il traduttore deve dare la possibilità al nuovo lettore di ritrovare questi silenzi ora quello che mi chiedo è la prima domanda non è però facile come dire non riempire i silenzi da parte di un traduttore che agisce sul testo che ha una sua storia un suo passato una sua visione del presente quindi secondo te questo come dire non riempire i silenzi implica una sorta di estrema disciplina da parte del traduttore di austerità cioè di resistere spesso alla tentazione tu lo dicevi l'ho riletta durante determinati contesti come dire che avrebbero dato la giustificazione di riempire questi silenzi questa austerità questa disciplina del traduttore poi un'altra cosa che mi è sembrata molto interessante che era stata appunto la sollecitazione che aveva dato Giulio cioè rispetto a questi due punti di partenza del traduttore cioè quello di tenere conto molto dell'apparato paratestuale di tutte le conoscenze che ci sono sull'opera oppure come dire semplicemente far parlare il testo lasciare ora la risposta che tu hai dato mi sembra che proponga non una via di mezzo ma una impossibilità quasi di fare una scelta drastica tra le due sostanzialmente cioè è come se il traduttore dovesse continuamente fare un va e viene tra questi due atteggiamenti anche qui come dire ovviamente tu l'hai detto io conoscevo tutto avevo lavorato per la tesi avevo letto tutto la biblioteca però come dire questo non mi ha impedito di ascoltare il testo però come dire anche qui c'è una disciplina molto forte da mettere in capo perché non è facile è come se uno dovesse rispetto a tutto quello che sa fare una sorta di epochè come diceva Husser una sorta di riduzione fenomenologica cioè di mettere tra parentesi tutto quello che so per come dire lui diceva entrare a contatto con le cose stesse qui la cosa stessa è il testo ecco queste due cose qui volevo chiederti grazie Paolo grazie sulla sulla questione dei silenzi è un argomento che mi che mi affascina molto perché mi affascina per cui vabbè potrebbe ci si potrebbe dilungare ed è anche un argomento difficile diciamo che per farla molto breve il traduttore è come se fosse fra due i francesi dicono con due caschette cioè io sono lettore in prima battuta e quindi come lettore faccio il mio gioco interpretativo quindi metto come dire riempio i silenzi appunto lo sto leggendo dopo la promenade des anglais e penso che quella comunità lì cioè faccio la mia porto il mio processo interpretativo che è quello che la letteratura vuole da me cioè credo che è proprio quella cosa lì insomma la letteratura il testo letterario rispetto ad altri testi è quello che coinvolge il lettore nel processo interpretativo e quindi io faccio la mia parte di lettore poi tolgo quella caschette e devo mettere la caschette chiamiamo da autore anche se autore in seconda autore al quadrato autore invisibile chiamiamolo come vogliamo e a quel punto è come se appunto io invece dovessi lasciare lasciare lo spazio perché il mio lettore italiano che legge la traduzione possa anche lui fare il gioco che ho fatto io prima con la mia prima caschette da qui forse tutte le derive in termini di nevrosi del traduttore che è dilaniato fra le due cose a me piace però l'idea piace proprio anche come autore in seconda di lasciare che il lettore abbia il suo spazio di lasciare che faccia la fatica appunto di abitare quei silenzi quindi sì è vero che è una grande disciplina è vero anche poi io credo non voglio fare quelle letture così della psicologia del traduttore però un dato caratteriale cominciando a frequentare tanto i traduttori anche tanti amici traduttori lo ritrovo ci sono ci sono traduttori a cui piace molto occupare la pagina a cui piace molto che la loro autorialità di traduttori si veda molto e ci sono traduttori a cui piace meno a me piace non lo vedo come qualcosa come dire di meno importante mettermi al servizio dell'autore perché io mi ci metto però con tutta me stessa e con tutte le mie con tutte le mie idiosincrasie però mi sembra che mettermi al servizio del lettore voglia dire nello stesso tempo boh insomma esserci al 100% e continuare a fare questo passo indietro per lasciare per lasciare spazio al lettore sulla sua sulla seconda invece domanda sul doppio punto di vista credo che rientri appunto quell'idea devo leggere tutta la BNF e nello stesso tempo devo stare solo qui a vedere che questa parola ordinaire torna tre volte anche qui ormai siamo abituati a lavorare fra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo per cui quella specie di funambolismo fra tutta la BNF e la parola lì sulla pagina è una delle cose che si che si spera di imparare non che si imparano e quindi proprio di trovare di trovare un equilibrio in fondo fra le due fra le due cose non credo di avertire ho fatto una parafrasi di quello che hai detto tu Paolo ma fa lo stesso grazie figurati Giulio tu cosa ne pensi? beh potrei fare ulteriori parafrasi di parafrasi no però ecco una differenza che ho notato sia per lo straniero che per la peste è che tendenzialmente quelle prime traduzioni proprio per il fatto di essere entrambe uscite a distanza di poco tempo dalla prima si affidavano tanto a ricalcare la lettera del testo e mi chiedo sempre come sarebbero potute essere alla luce di tutti gli studi che poi ci sono stati in futuro e non so mai qual è il limite tra il filtro che il traduttore porta con la sua esperienza personale con le sue conoscenze enciclopediche in generale e quindi quanto ci sia di quello comunque al di là degli studi delle letture su un autore e quindi mi chiedo mi interrogo su come una casa editrice per esempio possa scegliere il traduttore giusto per il testo giusto credo che sia molto molto difficile poi sia sempre una scommessa insomma notevole ma esula da tutto quello insomma dalla questione dei silenzi faccio una domanda io dato che vedo che non ce ne sono in chat abbiamo all'inizio quando avete introdotto il libro e comunque in generale avete parlato di questa della questione dell'allegoria della peste però non sapere che lui vi sia sfuggito perché un po' stanca non avete parlato durante la discussione perché ve lo chiedo perché ricordo ma forse è una cosa rimasta più nella storia della critica che ha una famosa che era tra Barte e Camus Yasmina probabilmente e Giulia insomma se ricordano che ruotava proprio intorno alla questione dell'allegoria cioè era un problema questo per un romanzo però voi avete messo in rilievo nell'analisi del testo tutti gli elementi fatemi richiamare romanteschi nel senso di un romanzo di un libro di una cronaca come la vogliamo chiamare radicata proprio nella storia degli uomini degli individui però mi chiedo leggendo il testo da vicino come solo un traduttore fa questa questione dell'allegoria emerge anche da un punto di vista dei termini utilizzati da certe formule e mi chiedo a Yasmina appunto se si è scontrata o se si è fatta questa domanda insomma sulla questione dell'allegoria e poi un'altra cosa che mi viene in mente rispetto al libro di cui abbiamo parlato ieri di Nabokov mi chiedevo Nabokov spero che mi corregano se sbaglio Susanna Zinato la licenza dell'otto però Nabokov a un certo punto dice parla come dire del talento attoriale del traduttore e quindi c'è una sorta di mimetismo necessario e chiedo a Yasmina se lei si rivede in questo cioè se quando lei traduce Camus o altri insomma lei fa si interpreta diciamo il ruolo prova o una cosa che non funziona grazie allora sulla questione sulla questione dell'allegoria e sulla diciamo la polemica con Barth secondo me Barth aveva torto non perché io debba difendere debba difendere sempre Camus ma proprio perché credo che la forza di questo libro e appunto e lo dimostra come lo leggiamo oggi la forza di questo romanzo è proprio il fatto che questa dimensione allegorica permette di attivare di volta in volta delle nuove possibili letture e per quanto riguarda appunto poi la ricaduta concreta nel testo di questo il tessuto allegorico e questo continuo procedere anche appunto quindi mi verrebbe da dire poi anche internamente al testo analogico mi colpiva moltissimo come in alcuni punti Camus ha delle parole che sono le parole della malattia per cui dei noduli tesi contratti proprio le parole della malattia della peste però trasportate per descrivere lo stato d'animo degli abitanti di Orano per cui c'è questo continuo anche all'interno del testo oltre alla appunto la grande allegoria in sé e poi proprio questo tessuto come analogico anche nella lingua che si nota per esempio con questi slittamenti del campo semantico della malattia usato per descrivere i sentimenti per quanto riguarda la domanda del mimetismo io non so se è proprio mimetismo io sono certa che ci sono autori con cui come si diceva una volta per esempio io mi sento più nelle mie corde o meno con Camus mi sento profondamente lo sento profondamente nelle mie corde per cui mi è più facile io lo so che dico per molti dirò una bestemmia però mi è capitato di tradurre dei romanzi di Colette parecchi anni fa e io e Colette non andiamo d'accordo non è nelle mie corde non mi piace e ho fatto una fatica enorme a tradurre i romanzi di Colette proprio perché ecco perché sentivo che rischiavo di portarla da un'altra parte perché non riuscivo ad aderire quindi quindi un po' l'idea di di autori con cui sei più in sintonia c'è assolutamente non so se non è quello esattamente il mimetismo però vedo che c'è una domanda da un milione di dollari in chat io non lo so quanto tempo abbiamo io per me starei qua anche tutto il pomeriggio direi ancora quattro minuti li prendiamo si appunto Patrizia fa una domanda si chiede come faccia il lettore a cogliere quei silenzi se non può fare il concetto beh per esempio io per farla breve perché appunto questo è un argomento che io trovo affascinantissimo ma che richiederebbe molto tempo l'esempio più più banale è quello che ho fatto prima del punto se una frase finisce con un punto finale e io traduttore appunto proprio perché lei non conosce l'originale ma io voglio cercare di farle leggere nella traduzione italiana adesso qui dico una cosa che non si può dire ma neanche morte ma insomma come se fosse come se leggesse il testo originale se io metto il punto lì per convenzione noi in quel punto il punto come dicevo prima è il momento in cui anche la voce si ferma un momento e quindi c'è questo piccolo cuneo di silenzio quindi anche se non ha il testo originale però in quel momento lì si deve fermare senti un silenzio e senti anche un qualcosa che a me piace che sia una piccola forzatura una forzatura della naturalezza diceva qualcuno la lingua della letteratura forza la naturalezza se Dio vuole ecco a volte l'Etrange è l'esempio più clamoroso di questa forzatura della naturalezza data dalla punteggiatura mettiamo un punto dove magari uno ancora non se lo aspetterebbe in quel momento lì di stupore sentiamo quel silenzio un po' un po' pieno di perplessità e di stupore dove comincia a partire la mia congettura rispetto al testo quindi non c'è bisogno di avere accesso all'originale se il traduttore ha ascoltato l'originale con abbastanza attenzione ecco risposta un po' rudimentale ma insomma tra l'altro voglio solo aggiungere rapidamente questa è proprio una constatazione che riguarda però la scansione del testo i silenzi le pause nella prima traduzione oltre a esserci questa sclerosi diciamo del punto e virgola che ovviamente viene inserito molto più spesso di quanto effettivamente non ci sia non c'è la scansione tra capitoli cioè ci sono le cinque parti con una divisione quindi in parte 1 parte 2 parte 3 parte fino alla quinta ma i vari capitoli sono accorpati per cui sembra di leggere un lungo discorso senza ma che va avanti per 40 pagine consecutivamente che sembra ovviamente cioè il lettore può decidere a un certo punto di mettere lui un punto chiudere il libro e andare il giorno dopo però secondo me spezza veramente il ritmo e soprattutto in un romanzo come la peste dove tendenzialmente la fine di ogni capitolo ha un peso ha una vuole fare riecheggiare qualcosa nel silenzio che lascia l'ultimo punto di quel capitolo e questo per fortuna è un altro di quegli aspetti per cui serviva una ritraduzione assolutamente o comunque una revisione che ripristinasse la scansione originale sì anche perché è verissimo quello che dici Giulio perché lì davvero in quel passaggio dei capitoli è come se si sentisse che cambia cambia addirittura il passaggio delle stagioni quasi nei capitoli o cambia proprio è proprio un blocco è un blocco di testo un blocco di tempo un blocco di stato d'animo un blocco di temi che passa ad altro sì ho visto che Cis ho alzato la mano quindi lascio la parola a lei posso chiedere ah scusa non ti ho visto Gerardo sì sì scusami non avevo visto una curiosità velocissima ho visto sulle copertine che la Piani quindi ha deciso di mettere di scrivere il nome della traduttrice sulla copertina ed è bellissimo perché è un bel riconoscimento al lavoro del traduttore una bella visibilità il traduttore come coautore si arriverà un giorno a imporre a tutte le case editrici di scrivere il nome del traduttore sulla copertina secondo lei non lo so non lo so speriamo speriamo davvero credo che questa operazione delle ritraduzioni può avere un senso proprio perché è come loro scrivono infatti sempre nuova traduzione di lo fanno su tutti i classici contemporanei per cui ha un senso perché il lettore capisce che è una nuova traduzione quindi se non sbaglio adesso io non so se lo stanno facendo anche con i non con i non con i classici però speriamo anche se io devo dire la verità sì è importante però trovo che boh che siano poi altri gli aspetti davvero importanti il tempo il denaro anche quello che diceva forse era non so se era Giulio prima che diceva scusate o mi confondo che insomma aveva forse era Francesca l'idea del saper saper scegliere il traduttore rispetto a un certo tipo di testo ecco poi se il nome è in copertina io sono contenta era qualcosa che quando ero giovane mi sembrava cruciale adesso adesso mi sembra importante se va di pari passo con altre cose insomma grazie figuriamoci grazie a lei non sentiamo bisogna deve accendere adesso mi sentite sì sì prima avevo perso tutto anche il video no scusate velocissima perché è tardi a proposito anche di quest'ultimissima cosa io del nome del traduttore in copertina io invece lo trovo abbastanza un segno abbastanza importante ad esempio nell'editoria italiana forse avrete visto c'è la casa editrice Voland Voland come il diavolo del maestro Margherita che ha una collana in cui in cui ci sono con la stessa addirittura con la stessa dimensione con lo stesso corpo dei caratteri con la stessa dimensione in un'impostazione grafica parallela autore e autore e traduttore proprio è una una copertina che pone proprio in maniera quasi provocatoria sullo stesso piano non so posso se ho il video no beh non lo vedete comunque ad esempio Alessandro Niero ha ritradotto Noi di Zamiatzin e potete vedere insomma comunque Voland se guardate vedrete come la copertina è quasi provocatoriamente pone sullo stesso piano esattamente anche graficamente traduttore e autore ecco no io in realtà poi gli interventi che sono stati ultimi hanno quasi detto tutto quello che volevo dire io volevo solo sottolineare quanto ho trovato molto interessante a parte l'intero intervento ma anche il discorso sul silenzio che è stato già ripreso da altri da altri colleghi e sul non chiudere i silenzi e lo lo estenderei lo estenderei anche al al non rompere il ritmo perché non sono solo i silenzi a volte non assistiamo soltanto a un riempimento dei silenzi a volte vengono anche invece introdotte delle rotture laddove non ci devono essere ad esempio la punteggiatura è senza altro lo strumento più più diabolico in questo caso in cui di cui come diceva anche la relatrice però ad esempio l'uso della coordinazione della subordinazione laddove c'è coordinazione quasi un caso contrario cioè l'unire invece il rompere scusate invece di unire mi ricollego al discorso che facevo ieri ossia l'importanza che è stata ribadita anche oggi di ascoltare dell'ascolto io credo che in questa ancillarità della traduzione si parlava anche prima parlavate prima della presenza più o meno invadente del traduttore io credo che l'ancillarità del traduttore non sia una sottrazione ma una una grande una grande responsabilità ecco in questa ancillarità che non esclude l'accumulo di conoscenze però l'ascolto del testo e quando io intendo ascolto intendo anche il far risuonare il testo fisicamente il farlo risuonare il farlo risuonare con la voce un ascolto quasi attoriale io ritengo che sia importante perché lascia sentire i tradimenti del ritmo che possiamo fare noi traduttori rispetto alle sia alle pause che a volte al contrario al fluire invece del testo al fluire continuo del testo quindi sia nel senso di chiudere i silenzi che al contrario di unire di unire e staccare a seconda dell'intervento per cui ecco questo aspetto del suono e del far risuonare il testo mi sembra che emerga anche da maniera prepotente da questo intervento e mi trovo molto mi trovo molto così lo trovo molto vicino alla mia sensibilità ecco volevo soltanto sottolinearlo grazie grazie davvero davvero grazie sottoscrivo anche ogni parola sono mi fa mi fa piacere mi fa molto piacere perché appunto anche l'aspetto del ritmo sono perfettamente d'accordo per me è una è una specie di bussola quella del ritmo ed è una bussola peraltro come posso dire è una bussola terribile perché anche dal punto di vista degli studi o delle ricerche il ritmo della prosa è una terra sconosciuta inesplorata ho fatto si fa una gran fatica a trovare della bibliografia e della ricerca e degli studi sul ritmo nella prosa tranne alcuni c'è un testo vecchissimo di Beccaria una tesi di dottorato credo di del linguista Beccaria che non mi ricordo mai come si chiama di nome proprio che è sul ritmo della prosa insomma è davvero molto difficile quindi ho la sensazione che si navighi anche molto a visto che si navighi col proprio metronomo interiore un po' per cui si ascolta questa specie di musica che si arpeggia però è la è la cosa principale io mi ricordo che la mia primissima traduzione era un romanzo di Hector Bianciotti e mi ricordo che l'autore mi scrisse un biglietto molto carino dicendomi madame la cadenza c'è tu la cadenza il ritmo è tutto evidentemente sono stata traumatizzata da giovane e quindi per me quella è rimasta è rimasta proprio la bussola insomma e anche l'ascolto proprio la parola ascolto io quando faccio lezione lascio molto frustrati i miei studenti perché la di coloro le versioni che poi produrrete sì saranno come dire saranno il meno peggio quello che importa è la voce da ascoltare ascoltare la voce del testo se la voce del testo è ascoltata bene verrà una traduzione buona insomma però anche insegnando la traduzione c'è una grande attenzione sempre posta all'esito cioè vediamo come sono le traduzioni e invece a me viene da dire vediamo com'è l'originale poi non importa come sono le traduzioni che ovviamente è una provocazione ma insomma proprio per riportare l'attenzione di là specialmente nei giovani traduttori perché i giovani vedo che corrono a come come lo porto in italiano cosa ne faccio dell'italiano però se non c'è l'ascolto di là questa corsa è inutile grazie grazie quanto quanto ascoltare chi mi piace chi è trovo in sintonia con me oppure comunque faccio il mio lavoro ai traduttori se capisco bene questa la domanda io penso che a un certo punto un traduttore non so poi mi piacerebbe sentire anche i colleghi che sono qui a un certo punto uno è un professionista e come poi va in supervisione come l'analista che avrà pure dei pazienti che gli sono antipatici però li prende lo stesso e poi magari appunto quando va in supervisione ci dispute un pochettino di più nel senso che è più è più faticoso senz'altro lavorare tradurre un testo con cui non senti non hai sintonia da questo ad arrivare lo rifiuto perché non ho sintonia forse è persino eccessivo ecco penso che a un certo punto io credo di essere in grado di riuscire anche a tradurre un testo per esempio che non mi piace tanto con cui non sono tanto in sintonia senza bisogno di forzare cioè non devo neanche forzare una sintonia sono una professionista e credo di riuscire a tradurlo ecco mi diverto un po' di meno mettiamola così allora grazie io direi che ci perdiamo un po' per il momento grazie 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 moltissimo Giulio e Yasmina veramente grazie a voi grazie a voi grazie in un po' di pazienza con voi grazie a quando è che ci vediamo a che ora alle due e mezza alle due e mezza perfetto ci faremo poco meno di un'ora la riunione rimane aperta chiudiamo i microfoni e video e poi aiuto grazie grazie a tutti grazie Giulio grazie grazie